I bolshevichi al potere, la rivoluzione d'ottobre, il colpo di stato di ottobre era il punto d'arrivo della lezione precedente e quindi oggi vediamo un periodo che va dall'ottobre del 17 fino al 21, al 22, gli anni clou degli sviluppi successivi della rivoluzione, cioè quelli della guerra civile tra armata rossa e armate bianche e della presa definitiva del potere, del consolidamento del potere da parte del partito bolshevico. Il 26 ottobre del 1917, l'8 novembre secondo il calendario russo, ricordatevi sempre questa differenza di un paio di settimane tra il calendario occidentale e il calendario russo, viene istituito il consiglio dei commissari del popolo, consiglio dei commissari del popolo che è l'organo a capo dello stato, è l'organo esecutivo guidato dai principali membri del partito bolshevico. sostanzialmente il potere è nelle mani del partito bolshevico, è vero che il termine bolshevico indica la maggioranza, l'ala maggioritaria del partito socialdemocratico russo, di quello che è il partito socialdemocratico russo, ma i bolshevichi non sono affatto la maggioranza nel paese, non sono affatto la maggioranza nemmeno all'interno di quelle forze rivoluzionarie di sinistra che avevano realizzato il colpo di mano sul palazzo d'inverno dell'ottobre del 17, quindi a capo del consiglio dei commissari del popolo c'è il nostro Lenin. Il 12 novembre, quindi qualche giorno dopo, vengono bandite le elezioni per l'Assemblea Costituente, elezioni per l'Assemblea Costituente perché la Russia si deve dare, secondo la normale tradizione, quella che risaliva alla rivoluzione francese, secondo questa tradizione si deve dare una costituzione, per questo viene convocata l'Assemblea Costituente attraverso regolari elezioni. A queste elezioni i bolshevichi ottengono soltanto il 24% dei voti, 24% dei voti che gli sono portati in gran parte da operai e soldati, mentre i loro amici, ma avversari, quelli più vicino a loro come concezione sono i diretti avversari dei bolshevichi, cioè i socialisti rivoluzionari, quei socialisti rivoluzionari che rappresentavano l'immenso mondo delle campagne russe e che dunque interpretavano il socialismo come ridistribuzione della terra, mentre la leva dei bolshevichi era soprattutto quella cittadina, quella urbana, quindi faceva riferimento al proletariato urbano, dunque agli operai. Ecco, i socialisti rivoluzionari ottengono con il sostegno dei contadini ben il 52% dei suffraggi, dunque si sarebbe costituita un'Assemblea Costituente con una maggioranza dei socialisti rivoluzionari. Uso il condizionale passato perché non si costituisce alcuna Assemblea Costituente dal momento che i bolshevichi con la forza, e questo è un secondo colpo di Stato, un colpo di Stato nel colpo di Stato sciolgono l'Assemblea. Con quale motivazione? Ebbene, il popolo non sarebbe ancora maturo, perché è influenzato dalla mentalità borghese, quindi avrebbe votato male in quanto la mentalità borghese avvelena i loro spiriti, obnubila la loro coscienza di classe, e allora aspetta i bolshevichi, avanguardia illuminata del popolo, nonostante lo stesso popolo, assumere la guida della rivoluzione. E questo crea quella dittatura del partito, quindi possiamo parlare in maniera reale, concreta, di dittatura del partito. Dittatura del partito, ben inteso, che non va confusa con la dittatura del proletariato, di cui invece aveva parlato Marx, dittatura di una classe sociale, il proletariato, il quale conquista il potere con una vera e propria rivoluzione, che può essere più o meno violenta o più o meno senza spargimento di sangue, quando i tempi sarebbero stati maturi, questo aveva detto Marx, e poi in una fase transitoria avrebbe imposto questa sua dittatura, finché le acque non si sarebbero del tutto calmate e sarebbe nata da lì a poco, magari con la seconda generazione, una società senza classe. A quel punto non avrebbe più avuto senso parlare di proletariato distinto da altre classi sociali o proletariato distinto da borghesia. Qui invece non abbiamo la dittatura del proletariato, in quanto il proletariato è inconsapevole, o è giudicato tale, chiaramente si tratta di una forzatura, ma una dittatura del partito, di un partito che è minoritario, assolutamente minoritario, all'interno del paese, ed è anche minoritario all'interno delle forze di sinistra. Chi dissente dalla linea bolshevica è bollato automaticamente come contro-rivoluzionario, nemico del popolo. Questo termine nemico del popolo ritornerà in tutta la storia dell'URSS, in particolare negli anni 20 e negli anni 30. A questo proposito viene istituita il 24 novembre del 1917 la famigerata CECA, la prima polizia politica del regime comunista, del regime bolshevico. CECA è una sigla che significa Commissione straordinaria per la lotta contro l'evoluzione e il sabotaggio. Vedete che questa eccessiva simpatia per la burocrazia non è un problema solo nostro, nostro italico, ma è un problema abbastanza diffuso, un problema che avevano anche i bolshevichi. Poi Mussolini istituirà successivamente sulla falsariga della famigerata CECA l'altrettanto famigerata OVRA, la polizia di Stato fascista. Insomma, Lieni da questo punto di vista è un aprifila. A questo proposito vi leggo un testo abbastanza breve che racconta i metodi della CECA, quindi come operava la CECA. Nel 1921 uno dei più stretti collaboratori di Drinzinski, Martin Lazzis, difese l'operato della CECA dalle numerose critiche che venivano mosse persino da alti esponenti comunisti. Le accuse più dure provenivano dal commissariato del popolo alla giustizia che contestava alla CECA la cancellazione delle più elementari norme di procedura processuale tipiche della cultura giuridica ottocentesca e il frequente ricorso alla pratica della fucilazione sommaria. Quindi andavano direttamente al dunque, senza processo, venivi preso, portato in un sotterraneo, in uno sgabuzzino, ti veniva puntata una pistola nella nuca e venivi fatto fuori. La CECA non è solo un organo investigativo, è l'organo di battaglia del partito del futuro. Questa è la celebrazione della CECA. Elimina senza processo e allontana dalla società imprigionando nei campi di concentramento. La sua parola è legge. Il lavoro della CECA deve coprire ogni sfera della vita pubblica. Quando si interroga non si cercano le prove pertinenti delle parole e delle azioni dell'accusato contro il potere sovietico. La prima domanda che bisogna porsi è a che CECA appartiene? Quale istruzione, educazione, origine professionale ha? Tali domande debbono determinare il destino dell'imputato. E questo è il senso e l'essenza del terrore rosso. Non giudica il nemico, lo colpisce, non mostra pietà, ma riduce in cenere chiunque imbracci le armi dall'altro lato della barricata e chi non c'è di alcuna utilità. Allora, capite da questo breve testo che la funzione della CECA è una funzione di lotta contro i nemici di classe, i quali, da questo punto di vista, non hanno nessun modo, nessuna possibilità di rivedere la loro posizione, di cambiare idea. Certo, il concetto di nemico di classe è un concetto decisamente più flessibile, almeno sulla carta, sarebbe più flessibile del concetto di nemico in termini razziali, perché la razza evidentemente non la puoi mutare, mentre la classe o la mentalità di classe la puoi riprogrammare, la puoi abbiurare. Ecco, se si tratta di ideologia tu puoi abbiurare un'ideologia, cosa che veniva chiesta agli eretici, no? Abbiurare questa o quella eresia. Ma qui si va, in quel momento lì, nel 17 e nel 18, negli anni più clou della rivoluzione, per le vie direttissime. Non c'è il tempo di convincere la gente, di riprogrammarla, mentalmente, cosa che si tenderà a fare successivamente. Quindi non si va per le spicce, la gente viene eliminata. E viene eliminata semplicemente perché ha addosso la divisa dell'esercito zarista, o perché era un borghese, o perché era un piccolo funzionario della burocrazia zarista, o perché è un contadino. Semplicemente non appartiene a quella classe sociale. E quel tipo di travestimento, di classe, non lo puoi mutare. quindi viene eliminato, viene fatto fuori per quello che sei in quel momento. Si inizia a parlare dunque di terrore rosso. Quindi la fase del terrore rosso corrisponderebbe a quella fase del terrore giacobino della rivoluzione francese, un rievocano nella dicitura quel momento storico, quello di Robespierre. il 3 marzo del 1918 viene siglato il trattato di Brest-Litovsk, ovvero la pace con i tedeschi, che impongono alla Russia condizioni durissime. Ma è un punto fermo della politica di Lenin, che già nelle tesi di aprile aveva promesso l'immediata uscita della Russia dalla guerra. Basta con la guerra imperialistica. In quel momento Lenin è disposto a cedere, infatti cederà, a ampie province della ex-Russia azzarista, perché ha bisogno di un momento di tregua per riorganizzare le forze della rivoluzione all'interno della Russia. e quindi in questa maniera rinuncia per esempio anche all'Ucraina, l'Ucraina è una provincia parte integrante della Russia, anzi la Rus, il nucleo originario dello Stato Russo è nato proprio in Ucraina. L'Ucraina è il granaio della Russia, quindi gran parte del grano consumato in Russia, del pane consumato in Russia veniva dall'Ucraina, quindi cedere l'Ucraina ai tedeschi, l'Ucraina diventa uno Stato fantoccio contro i lati tedeschi, è un colpo gravissimo, ma insomma bisogna uscire dalla guerra, bisogna uscire il prima possibile. Non sono tutti d'accordo con questa linea, per esempio Bukharin dall'interno del partito bolshevico è fermamente contrario alla firma del trattato, sono contrari anche quei socialisti rivoluzionari di sinistra, fino a quel momento avevano appoggiato i bolshevichi, tra di loro spiccava la figura di Maria Spiritonova, era stata una famosa rivoluzionaria, si era fatta anche alcuni anni di Siberia, quindi era conosciuta dagli stessi bolshevichi e cara agli stessi bolshevichi, ecco, sia i rivoluzionari, i socialisti rivoluzionari di sinistra, sia la gran parte dei bolshevichi non si ritrovano immediatamente nel trattato di Brest-Ritovski e vorrebbero continuare la guerra rivoluzionaria contro la Germania, quindi dare un impulso rivoluzionario a quella che era stata la vecchia guerra zarista. Predomina alla fine la linea di Lenin, il 6 luglio del 1918 abbiamo una prima insurrezione dei socialisti rivoluzionari che a quel punto abbandonano la linea dei bolshevichi e si schierano anche loro contro i bolshevichi visto che i bolshevichi ormai hanno assunto un controllo dittatoriale del paese e il 30 agosto quindi un paio di mesi dopo si giunge all'attentato a Lenin una donna Tania Kaplan ebrea si arma di pistola e alla maniera degli anarchici spara addosso a Lenin ferendolo gravemente. Quello è il punto di svolta cioè da quel momento in poi il terrore rosso si rivolge non solo contro i nemici di classe quindi ex ufficiali zaristi pope ortodossi gente che è rimasta fedele allo zar ma si rivolge anche contro i nemici della sinistra quindi contro quei socialisti rivoluzionari che pure avevano appoggiato fino a quel momento i bolshevichi si svuotano le carceri tra i 10.000 15.000 prigionieri politici che in quel momento affollavano le carceri russe vengono passati per le armi vengono massacrati senza pietà questi sono i durissimi provvedimenti presi da contro i nemici della rivoluzione che riecheggiano appunto il periodo del terrore giacobino di cui dicevo prima da questo momento proclama la Pravda la Pravda è il giornale dei bolshevichi Pravda vuol dire verità titolo famosissimo Pravda verità rimarrà l'organo ufficiale del partito comunista dell'unione sovietica il PQS fino alla caduta dell'unione sovietica fino alla fine dell'unione sovietica ebbene da questo momento l'inno della classe operaia sarà un canto di odio e di vendetta la contro rivoluzione questo perfido cane rabbioso deve essere abbattuta per sempre quindi la lotta contro l'evoluzionale contro i nemici interni della Russia e contro a maggior ragione contro quelli interni alla stessa sinistra o alle stesse sinistre si fa assolutamente radicale terribile e si arricchisce di questo elemento di fanatismo che fino a quel momento aveva caratterizzato almeno nella memoria degli europei le guerre di religione quelle del seicento ecco perché abbiamo detto che le ideologie del ventesimo secolo per alcuni versi assomigliano alle religioni dei secoli precedenti a quel punto scoppia la vera e propria guerra guerra civile tra bianchi e rossi rossi il termine rosso si riferisce all'armata rossa costituita da Trotsky quale viene messo a capo dell'armata rossa per le sue competenze militari i bianchi invece sono tutti gli altri in primo luogo i bianchi sono gli ex generali zarissi o tutte quelle forze presenti in Russia i cosacchi per esempio o quelli che erano rimasti fedeli allo zar per svariati motivi i quali hanno i loro motivi per combattere i boscevichi ma poi sono appoggiati questi anticomunisti dalle potenze straniere in particolare in oriente abbiamo un esercito abbastanza vasto composto da ben 73.000 giapponesi che aggrediscono la Russia boscevica a questo punto da oriente 8.000 soldati americani più altre migliaia di soldati italiani francesi inglesi belgi cioè tutte le truppe dell'intesa che fino a quel momento erano state alleate della Russia erano state alleate della Russia fino all'uscita dalla guerra da parte della Russia boscevica si schierano contro vengono utilizzati contro la rivoluzione in Siberia tra l'altro opera una famosa legione cecoslovacca famosa perché composta da ex prigionieri asburgici che erano stati precedentemente armati per essere impiegati contro gli austriaci armati in quanto slavi si erano dissociati dalla causa dell'impero asburgico e quindi i russi avevano intenzione di utilizzarli contro i loro ex commiditoni contro l'impero asburgico ma dopo il colpo di stato bolshevico questi ex prigionieri ormai divenuti soldati e armati di tutto punto che si trovano proprio nel cuore della Russia si schierano contro la rivoluzione e marciano verso Ekaterinenburg dove è tenuto prigioniero lo zar con la sua famiglia si avvicinano così pericolosamente che il 16 luglio Lenin comunque i funzionari bolshevichi prendono questa decisione terribile a sangue freddo di ammazzare di far ammazzare tutta la famiglia dello zar compreso a cominciare dallo stesso zar chiaramente vengono massacrati proprio per timore che i cecoslovacchi possano liberarli e da quel momento in poi lo scontro si imbarbarisce ulteriormente raggiungendo toni parossistici di fanatismo quindi si parla di guerra totale e assoluta ovvero una guerra totale e assoluta è quella che non prevede alcuno spazio per il compromesso quindi la lotta si può concludere soltanto con l'annientamento di una delle due parti termine nuovo che poi caratterizzerà le guerre ideologiche del ventesimo secolo riecheggiando ripeto le guerre di religione del seicento ecco questa è la cartina che spiega vi mostra i movimenti i capovolgimenti di fronte della guerra civile russa ben inteso guerra civile russa che fa più di sei milioni di morti insomma i russi perdono una quantità di soldati contadini molti muoiono di fame quindi dei danni terribili sia in senso demografico sia in senso economico peggiori addirittura rispetto a quelli che aveva causato la grande guerra ecco vedete l'Ucraina all'inizio è stato indipendente poi i russi i boscevichi riconquisteranno alla fine della guerra civile riconquisteranno le aree che qui sono segnate in verde in verde chiaro mentre le aree segnate in verde scuro quindi la Finlandia la Polonia che nel frattempo si è costituita in stato indipendente le tre repubbliche baltiche Lettonia Estonia e Lituania anch'esse costituite a stato indipendente la Bessarabia che questa regione qui in quella diciamo al confine con la Romania queste verranno definitivamente tolte alla Russia poi saranno riconquistate da Stalin dopo la seconda guerra mondiale riannesse all'Urts dopo la seconda guerra mondiale e queste quindi queste province in verde scuro costituiranno quello che verrà definito una sorta di cordone sanitario per tenere l'Unione Sovietica che a quel punto è uscita vittoriosa dalla guerra quantomeno dalla guerra interna per tenerla lontana per isolarla rispetto al resto dei paesi europei e impedire la diffusione della pestilenza rossa della rivoluzione ai paesi dell'Europa centrale e occidentale un'altra pagina molto interessante che si situa all'interno della guerra civile russa questo biennio di guerre che poi riguarderanno come vedremo anche il resto d'Europa infatti passerà la storia con il termine biennio rosso è la pagina dell'antisemitismo pagina dell'antisemitismo che anticipa sia per alcune diciamo per la dimensione di alcuni massacri sia soprattutto in termini ideologici temi che poi si riproporranno al tempo dell'itlerismo quindi poi durante la seconda guerra mondiale gli ebrei vengono identificati con gli stessi boscevichi quindi ci saranno massacri di ebrei da parte delle truppe bianche pogrom adesso la russia come sappiamo non era affatto come dire non era affatto estranea il massacro degli ebrei anzi il termine pogrom è proprio russo abbiamo già visto come l'antisemismo russo ancora nell'ottocento fosse particolarmente virulento ogni tanto si accendevano a quella focolai in tempo di carestia o in tempo di pestilenza che avevano come oggetto gli ebrei quindi prendevano di mira gli ebrei si parla di un massacro di ebrei che sono accumulati alla causa bolshevica quindi ebrei uguale comunista uguale bolshevico associazione questa che ritroveremo anche nella visione di Hitler anche nel Mein Kampf verranno massacrati dai 50.000 ai 200.000 ebrei quindi queste sono cifre agghiaccianti molto aleatorie perché insomma oscillano da 50.000 a 200.000 non abbiamo dati certi ma quello che è certo è che inizia a circolare questo testo che era stato creato tra il 1902 e il 1903 da alcuni intellettuali russi che si intitola I protocolli dei savi di Sion un libro famoso che è passato alla storia un falso è stato fabbricato per così dire nel laboratorio intellettuale di questi antisemiti russi però viene considerato vero questi protocolli dei savi di Sion sono contenute tesi agghiaccianti si parla di questa congiura ebraica mondiale che unisce i comunisti i boscevichi che sono o sarebbero quasi tutti ebrei li unisce ai capitalisti quindi da una parte ci stanno i boscevichi che rappresentano una delle due leve della tenaglia dall'altra parte ci sarebbe il capitalismo internazionale quello dei Rothschild dei Rockefeller in mezzo tra queste due braccia della tenaglia c'è l'Europa l'Europa che deve essere divorata inghiottita è la stessa tesi che poi ritroveremo nel Mein Kampf di Hitler e che circolerà in maniera acritica in maniera poi assolutamente come dire ideologica nei due decenni successivi il tema dei protocolli dei savi di Sion viene ripreso dai generalizzaristi delle truppe bianche che parlano appunto di cospirazione mondiale contro la Russia poi contro l'Europa in generale è talmente come dire pertinace è talmente diffuso questo mito che viene ripreso addirittura nel 1920 dall'autorevole giornale inglese britannico il Times il Times parla anche questo se l'esce con un titolone ecco abbiamo le prove della congiura ebraica contro l'Europa contro il mondo intero e i bolshevichi fanno parte di questa congiura dunque dobbiamo riprimerli dobbiamo riprimere la rivoluzione prima che si diffonda ulteriormente sarà lo stesso Times in onore alle delle norme giornalistiche le norme deontologiche a ritrattare l'anno successivo quindi al 1921 il Times ritratta ormai sono evidenti sono uscite fuori le prove che i protocolli esa visione è un falso anche costruito neanche troppo bene e niente quindi c'è questa ritrattazione ufficiale ma non c'è niente da fare ormai la notizia si è diffusa un po' come accade oggi nei social si è diffusa in tutta Europa è cavalcata dai vari movimenti antisemiti in particolare da quello tedesco quindi rimbalza da una parte all'altra e viene considerato un dato certo quindi la congiura esiste e pensate che ancora oggi c'è qualcuno che crede nel fatto che i protocolli di esami di Sion sia un testo veritiero e che ci sia effettivamente questa congiura mi riportava ai termini di una congiura mondiale sempre scatenata dagli ebrei ma non all'inizio del novecento bensì negli anni novanta quindi una cosa molto recente una persona che conosco insomma una signora russa mi diceva sì sì c'è ancora questa congiura a capo di questa congiura ci sarebbe niente po' di meno che la regina Elisabetta d'Inghilterra non pensate che i protocolli dei savi anziani di Sion all'epoca quindi inizio degli anni venti è il testo più stampato tradotto in tutte le lingue più stampato dopo la Bibbia quindi pensate che diffusione ha avuto e pensate come è falsata la visione che spesso abbiamo della storia cioè quanto la propaganda efficace molto efficace in questo in quell'epoca continua a condizionare anche a decenni o a secoli di distanza la nostra visione della storia la nostra rilettura dei fatti cioè a volte quello che noi studiamo che leggiamo nei libri magari su fatti che non sono stati sottoposti a revisione a correzione critica e così via a volte quello che noi leggiamo nei libri non è il fatto in sé ma la versione del fatto che ci è stata data all'epoca da questo da quella autorità in genere da chi ha il potere da qui l'affermazione la storia la scrivono i vincitori o quelli che in quel momento hanno il potere quindi alcune cose le sappiamo ma le sappiamo secondo le versioni che sono state date al tempo poi sono veramente duri a morire questi pregiudizi ancora oggi circolano vengono ripresi poi ci sono altri testi che riecheggiano i contenuti dei protocolli dei salmi anziani di Sion e sono stati scritti successivamente poi diventeranno dei best seller all'epoca italiana insieme al celebre Mein Kampf in cui questi stereotipi ritornano tutti tali e quali ecco come dire sono veramente duri a morire quindi una serie di pogrom qui ci vanno di mezzo come al solito poveri disgraziati gente che non ha né arte né parte nessuna colpa salvo il fatto di essere ebrea quindi vedete nella diapositiva i testi della Torah che vengono dati alle fiamme che vengono profanati allora altro tema il comunismo di guerra che significa comunismo di guerra si riferisce ad una specifica azione economica un'azione economica una politica economica messa in atto da Lenin e dal partito bolshevica per far fronte alla tragica difficilissima situazione in cui versa il territorio da loro controllato che quella parte di territorio accerchiato dalle armate bianche e dai loro alleati alla fine del 1917 quando i bolshevichi hanno preso il potere scarseggiano nelle principali città che poi sono Leningrado e Leningrado ancora non si chiama così Pietrogrado e Mosca scarseggiano grano legna carbone petrolio di tutto la gente letteralmente muore di fame e quelli che muoiono di fame in città sono persone difficili da sostituire perché sono gli operai che mandano avanti lo sforzo bellico dell'armata rossa sostengono lo sforzo bellico dell'armata rossa fabbricando fucili munizioni eccetera eccetera a quel punto occorre requisire con le buone o con le cattive leggi con le cattive il grano dalle campagne quindi si crea un conflitto che poi è un classico del periodo degli anni venti ritroveremo poi in epoca staliniana tra le città che sono comunque in mano ai boscevichi e che dal punto di vista della lotta di classe per così dire rappresentano gli interessi del proletariato operaio urbano quello che sarebbe stato la punta di diamante della rivoluzione quando avrebbe raggiunto la maturità e avrebbe raggiunto anche la maggioranza della popolazione a cui parliamo di una ristrettissima minoranza questo lo avete capito ne abbiamo parlato nella precedente elezione in cui dicevamo che i tempi effettivamente non erano maturi e che quindi voler piegare la filosofia di Marx la visione di Marx all'esigenza del leninismo è operazione decisamente complicata in alcuni casi anche falsificante quello che era stato il pensiero di Marx ebbene gli operai però sono la forza del partito bolshevico dunque vanno alimentati vanno alimentati e a quel punto si scadena il cosiddetto comunismo di guerra guerra comunista contro i contadini quindi requisizione dei raccolti ai contadini che non sono disposti a vendere il grano ai prezzi irrisori che erano stati imposti dallo stato bolshevico quindi andiamo lì e ti diamo una moneta per una quantità di grano enorme i contadini spesso e volentieri nascondono il grano oppure lascia abbandonano i campi o bruciano il raccolto per non farlo cadere nelle mani dei bolshevichi spesso e volentieri i contadini appoggiano le armate bianche quindi il comunismo di guerra è inserito proprio all'interno di questo conflitto che è la guerra civile russa tra l'altro con la conquista dell'Ucraina i comunisti bolshevichi avevano perso una parte significativa del granaio russo quindi la situazione è ancora più grave che succede che gli operai e i cittadini a quel punto si riversano nelle campagne in città si muore di fame l'unica speranza che abbiamo di metterci qualcosa sotto i denti è tornare nelle campagne andare nelle campagne Mosca perdi addirittura il 14,5% della popolazione Pietrogrado oltre il 57% quindi pensate le città si svuotano il che provoca il collasso della produzione industriale a quel punto il 9 maggio 1918 Lienin dichiara la guerra ai contadini che vengono chiamati vengono appellati con l'epiteto nemici del popolo ovvero kulaki che in russo vuol dire sfruttatori quindi tutti i contadini sarebbero kulaki sfruttatori poi il termine kulako si riferiva ad una classe particolare di contadini piccoli proprietari terrieri la guerra la battaglia contro i kulaki sarà poi ripresa e portata a termine da Stalin alla fine degli anni 20 quindi per le campagne iniziano a girare questi reparti di requisitori dell'armata rossa che provocano più di 200 insurrezioni contadine quindi pensate è una rivolta nella rivolta pensate quant'è caotica la situazione quindi i boscechi devono affrontare prima questa guerra su vari fronti contro le truppe bianche poi la guerra contro contemporaneamente contro le truppe dell'intesa in più rivolte contadine che scoppiano a destra e a manca una sorta di vandea ecco di replica della vandea no della famosa pagina di insurrezioni contadine della rivoluzione francese a quel punto si costituisce definitivamente l'armata rossa si costituisce ufficialmente l'armata rossa fondata proprio a metà marzo del 18 da Lev Trotsky e nell'armata rossa vengono arruolati ex ufficiali dell'esercito zarista che sono gli unici specialisti militari in circolazione ciascuno però affiancato da un commissario politico quindi la caratteristica specifica dell'armata rossa caratteristica che l'armata rossa manterrà anche nei decenni successivi è quella di essere organismo militare e politico allo stesso tempo quindi il militare di professione deve essere comunque affiancato da un membro del partito bolshevico che controlla il suo operato dal punto di vista politico controlla la correttezza politica del suo operato chi si ribella viene spedito in Siberia viene internato viene eliminato sul campo alla fine con le buone ma soprattutto con le cattive nel 1920 i bolshevichi riescono a vincere la guerra vincono la guerra ma pagano un prezzo carissimo un terzo dei campi della russia sono stati abbandonati un terzo dei campi che erano coltivati nel 1914 risultano abbandonati le campagne in rovina forniscono pensate alla popolazione russa solo i due quinti di quella che era stata la produzione del 1916 che pure era stata una produzione svolta in un anno di guerra quindi meno della metà del grano e del pane in circolazione rispetto a quello di qualche anno prima quindi pensate che situazione che nel 1916 la situazione era assolutamente drammatica la russia era in ginocchio infatti nel 1917 poi sarà costretta a uscire dalla guerra quindi pensate qui abbiamo i due quinti della produzione del 1916 da qui una serie di rivolte famosa quella del distretto di Tambov nell'agosto del 1920 rivolte che scoppiano spontaneamente da parte di partigiani anti-bolcevichi partigiani russi che non sono nemmeno fedeli allo zar cioè non interessa nulla dello zar cercano semplicemente di sopravvivere lottano per la loro sopravvivenza tanto è vero che per distinguersi dalle truppe bianche fedeli allo zar si autodefiniscono truppe verdi così mettono un altro colore tanto per creare un altro po' di confusione così abbiamo il tricolore italiano abbiamo l'armata rossa le truppe bianche e anche le truppe verdi ma mancava questo sì praticamente la famiglia dell'ozar era imprigionata in quella di Ekaterinburg che è una città diciamo nella Russia orientale lontana dai principali centri erano tenuti i prigionieri là in gran segreto il destino della famiglia imperiale ancora non era stato deciso non si capiva bene se doveva essere processato non doveva essere processato Lenin ancora non aveva deciso nulla che cosa accade? accade che questa armata cegoslovacca che era stata armata dagli stessi russi nella Siberia quindi nella Russia centrale si schiera dalla parte dei bianchi insomma diventa anti-bolcevica e si ritrova si trova proprio a marciare andare verso Ekaterinburg verso la residenza dove sono tenuti i prigionieri lo zare e la sua famiglia a quel punto Lenin ordina di ammazzare non ha più tempo da perdere non si può correre il rischio che lo zare venga liberato da truppe bianche da truppe comunque collegate alle truppe bianche quelle zariste perché se lo zare fosse stato liberato beh sarebbe stato come dire un colpo durissimo per i bolcevichi sarebbe diventata l'icona vivente la guida vivente delle truppe contro rivoluzionari è certo quindi a quel punto bisogna ammazzarlo non si può più perdere tempo si può ordinare ammazzarlo sapete poi sulla morte dello zar e della famiglia ci sono dette tante cose sicuramente fanno una brutta fine vengono ammazzati prima lui poi tutti il figlio maschio l'Alexei le figlie femmine vengono ammazzate brutalmente in quel documentario americano che abbiamo visto facciamo vedere anche i schizzi di sangue poi ricostruzioni a posteriore poi questa cosa qui è stata ovviamente messa sotto censura ecco è interessante la pagina che è stata scritta dopo nel senso che la notizia non deve diffondersi perché sarebbe arma nelle mani dei contro rivoluzionari e quindi non si viene a sapere nulla si sa soltanto che lo zar è stato eliminato magari è stato sottoposto a regolare il processo non si sa nemmeno dove è stato seppellito perché altrimenti si farebbe della tomba dello zar come dire un luogo di pellegrinaggio e praticamente alla fine i corpi dello zar e della sua famiglia vengono ritrovati e riesumati erano stati seppelliti in un bosco vicino a questa casupola nella campagna di Caterinemburg dove erano tenuti i prigionieri e vengono riesumati dopo la caduta dell'Unione Sovietica negli anni 90 primi anni 90 si riapre questa pagina famosa della storia russa viene riesumato il corpo di Nicola II viene ricostruito attraverso il DNA si rintraccia attraverso il DNA si rintracciano anche le ossa dei figli della figlia quindi si sfada quella leggenda che qualche membro della famiglia imperiale si fosse salvato effettivamente da questa esecuzione di massa e le ossa dello zar vengono restituite diciamo ufficialmente al popolo russo il contrasto con i partiti socialisti europei perché a questo punto come vedrete si chiariscono anche una serie di termini del linguaggio politico novecentesco che magari non sono ancora così ben chiari all'inizio del ventunesimo secolo vengono utilizzati spesso a casaggio e da che cosa deriva questa questa distinzione e questo successivo chiarimento beh dal contrasto tra Lenin tra i buscevichi vittoriosi in Russia e i partiti socialisti europei intanto i partiti socialisti europei li avevamo lasciati alle prese con la prima guerra mondiale avevamo visto come si erano spaccati alla vigilia nella prima guerra mondiale si era spaccato all'internazionale quindi era venuta meno alla seconda internazionale perché? perché alla fine vedi i socialisti tedeschi votano a favore addirittura della guerra molti alla fine vengono trascinati dallo spirito nazionalistico che posizione prendono i socialisti europei tedeschi in particolare ma anche italiani francesi nei confronti della rivoluzione russa della rivoluzione boscevica uno dei personaggi più autorevoli è il Karl Kauski uno dei capi del partito socialista tedesco il quale afferma che la politica di Lenin è uscita fuori dal solco tracciato da Marx quindi ha tradito effettivamente la rivoluzione marxista no? perché perché di fatto in Russia mancano quelle oggettive condizioni in termini di dialettica storica per realizzare il socialismo così come l'aveva pensato Marx cioè non puoi semplificare lo dicevamo nella precedente elezione la dialettica storica non puoi saltare una tappa e passare dal feudalesimo al proletariato alla rivoluzione del proletariato saltando l'evoluzione degli stati borghesi si tratta di una falsificazione anzi peggio perché i bolshevichi in questa maniera rischiano di far sfociare la rivoluzione marxista in un inutile distruttivo anarchismo mietendo centinaia di migliaia di morti per così dire a fondo perduto quindi farebbero non gli interessi della rivoluzione del socialismo in sé per sé ma addirittura gli interessi dei nemici della rivoluzione questa è la tesi di Kauski che diciamo è il più eminente rappresentante del socialismo europeo e quasi tutti i partiti europei si ritrovano i partiti di sinistra si ritrovano nella visione di Kauski quindi si oppongono a Lenin la risposta di Lenin è altrettanto ferma è altrettanto brutale Kauski è un traditore del marxismo è un traditore del marxismo perché sta tradendo la rivoluzione in Russia e siccome noi bolshevichi incarniamo in questo momento storico l'avanguardia del proletariato dell'avanguardia della rivoluzione chi è con noi è a favore della rivoluzione chi è contro di noi evidentemente è un contro rivoluzionario quindi sta da parte dei capitalisti è stata da parte dei nemici della rivoluzione è venuta meno dicevo la seconda internazionale a questo punto Lenin deve costruire un organismo internazionale alternativo alla seconda internazionale schierato dalla parte della rivoluzione bolshevica quindi deve passare questa linea la rivoluzione che tanto spiegavamo c'è stata c'è stata in Russia l'avanguardia della rivoluzione siamo noi dunque gli altri paesi europei gli altri partiti socialisti si devono allineare alla nostra posizione nasce il Cominterne Cominterne è l'internazionale comunista quel co che sta davanti significa questo che è un'associazione internazionale più formale che sostanziale cioè internazionale per modo di dire ci sono soltanto 50 delegati per tutta l'Europa e mancano socialisti provenienti da Italia Spagna Inghilterra Francia cioè i principali stati europei non sono minimamente rappresentati all'interno del Comintern che è ad uso e consumo di Lenin e dei Bolshevichi quindi gli interessi del comunismo internazionale del Comintern coincidono con gli interessi di quella che è l'Unione Sovietica o che sarà da lì a breve l'Unione Sovietica Lenin tra l'altro non ci va affatto leggero impone 21 regole che bisogna accettare in blocco e sono scritte dai Bolshevichi cioè o tu accetti tu socialista tedesco o cecoslovacco piuttosto che polacco o tu accetti le linee stabilite dal partito comunista dell'Unione Sovietica oppure sei fuori dall'associazione internazionale da quel momento in poi quindi parlare di internazionale e parlare di causa comunista comunista nel senso Leninista e Bolshevica significa dire la stessa cosa a questo punto ecco qui che si definiscono in maniera chiara e distinta chiara e distinta secondo il linguaggio politico del novecento quello che ancora oggi adottiamo poi sono state delle semplificazioni dei cambiamenti successivi si chiariscono quei tre termini che fino a quel momento erano stati utilizzati in maniera piuttosto indifferenziata cioè comunismo socialismo e socialdemocrazia allora fino alla vigilia della rivoluzione russa alla fin fine da qui tutta una serie di ambiguità anche di confusione no per lo studente medio dire socialista dire partito socialista dire comunista dire socialdemocratico beh significavano la stessa cosa grossomodo poi ci stavano delle distinzioni interne no vi ricordate i socialisti massimalisti che erano quelli che appetivano in tempi brevi la rivoluzione i minimalisti che invece erano per un progressivo riformismo no poi c'erano distinzioni all'interno dello stesso partito socialdemocratico russo cioè partito quello che si divideva in bolshevichi e mescevichi si chiama partito socialdemocratico russo di cui c'era l'ala maggioritaria i bolshevichi e l'ala minoritaria ovvero i massimalisti e minimalisti anche lì il termine comunista era stato utilizzato in associazione alla comune di Parigi quella del 1870 1871 i comunardi ma lì il termine comune si riferiva proprio al comune di Parigi e alla comune di Parigi che era un termine che aveva avuto un significato specifico localistico in qualche maniera adesso invece per la prima volta i termini si distinguono nettamente c'era stato pure il comunismo platonico o quello di Tommaso Campanella o di Bacone piuttosto che di Tommaso Moro quello delle utopie delle città ideali quindi erano termini che avevano altri significati erano stati utilizzati in altre aree linguistiche in altre aree lessicali adesso il comunismo che cos'è? il movimento che a imitazione del modello sovietico è sotto la direzione della terza internazionale ha come meta la rivoluzione realizzabile in tempi brevi quindi chi si dice comunista sposa la linea della terza internazionale cioè del cominterne ovvero la linea del partito bolshevico russo cioè quello della rivoluzione leniniana quindi si riconosce nelle idee di Lenin è un marxista leninista quindi dire comunista negli anni venti inizia a significare marxista leninista che è ben diverso dal marxista o ben diverso da marxiano perché se io dico marxiano mi riferisco alla lettera mi riferisco in termini teorefici in termini di studio alla lettera del pensiero di Marx se dico marxista dico tante cose diverse tante cose diverse che mi riferisco alla storia della prima e della poi soprattutto della seconda internazionale ovvero la storia che va avanti dagli anni 70 80 dell'ottocento arriva fino alla rivoluzione bolshevica se dico invece marxista leninista dico comunista ecco allora i comunisti sono quelli che appoggiano Lenin che vedono nella rivoluzione bolshevica il faro che sarà in grado di illuminare il mondo di far procedere il mondo intero verso la rivoluzione infatti negli anni 20 all'inizio degli anni 20 dai vari partiti socialisti iniziano a staccarsi una serie di costole che si costituiscono in partiti comunisti quindi nascerà il partito comunista francese il PC italiano fondato da Gramsci come sapete socialismo socialista ovvero il movimento che presenta la rivoluzione come meta finale tuttavia in disaccordo con i bolshevichi esso ritiene che il rovesciamento del capitalismo non sia possibile in tempi ravvicinati quindi il sol dell'avvenire è ancora lontano dal sorgere ovvero siamo noi i reali i veri eredi della visione marxiana perché perché dobbiamo attendere la maturazione dei tempi cioè lo svolgimento di quella dialettica storica che sola e per ragioni come dire scientifiche sarà in grado di raggiungere la rivoluzione in sé per sé dunque i socialisti sono i nemici dei comunisti sono i nemici di Lenin se io mi proclamo socialista all'inizio degli anni 20 e poi anche successivamente sono in rotta di collisione con il leninismo e se mi dovessi trovare Dio non la voglia in Russia negli anni clou della guerra civile essere socialista o socialista rivoluzionario significa essere passibile di condanna a morte o essere immediatamente ammazzato da un cechista dal cechista di turno perché è il mio nemico sapete che i nemici quelli che si trattano in maniera più spietata non sono quelli totalmente altri quelli più lontani dalla mia ideologia ma sono quelli più vicini a volte è una virgola che separa la mia visione del mondo dalla visione del mondo dal mio peggior nemico socialdemocrazia movimento che rinuncia alla via rivoluzionaria e si propone di cambiare la società borghese nel rispetto della proprietà privata e della democrazia parlamentare allora vedete che socialdemocrazia ha un altro significato se io mi proclamo socialdemocratico vuol dire che ho sposato appieno quella che è la linea di evoluzione degli stati liberaldemocratici alla maniera occidentale quindi ho sposato il parlamentarismo la logica parlamentare costituzionale e lavoro dall'interno del sistema per realizzare quelle riforme che nei decenni a venire nel tempo a venire mi consentiranno di realizzare appieno le idee marxiane quindi se io mi proclamo socialdemocratico mi proclamo pienamente integrato nel regime liberaldemocratico sono fedeli a quel regime mentre il socialista che pure siede in parlamento ha comunque mantiene comunque un'idea rivoluzionaria anche se questa rivoluzione è spostata in un tempo là da venire e si può magari realizzare attraverso una serie di successive riforme o non necessariamente con il sangue invece essere socialdemocratico vuol dire aver rinunciato anche alla via rivoluzionaria in termini di rivolgimento violento dunque opererò all'interno del sistema con le riforme ho dato il mio placet al regime liberaldemocratico a definirmi comunista mi si vede schierato dalla parte di Lenin e quindi come dire fedele al Comintern e fedele a quel modello di rivoluzione che è un modello violento dall'aprile del 1920 quando diciamo la guerra civile tra l'armata rossa e l'armata bianca e le armate bianche anzi si declinano dal plurale è in qualche maniera risolta a favore dell'armata rossa la guerra riprende contro la Polonia la Polonia stato neocostituito dopo la fine della grande guerra mi ricordate la Polonia era spartita tra la Germania la Russia e l'impero austro-ungarico la Polonia aggredisce la Russia boscevica sperando di poter sfruttare le sue debolezze interne la situazione non è affatto pacificata all'interno della Russia a metà giugno l'armata rossa contrattacca arriva fino alle porte di Varsavia e a quel punto c'è il proclama di Trotsky fatto ai proletari polacchi agli operai polacchi nonché agli operai al movimento operaistico europeo in generale di assistere l'armata rossa con la rivolta siamo arrivati alle porte di Varsavia apriteci le porte fate cadere la cittadella di Varsavia dall'interno quindi loro sperano i russi sperano in una rivoluzione che infiammi l'Europa intera e in particolare la Polonia questa rivoluzione non si verifica i russi vengono respinti sulla vistola arretrano alla fine nonostante non siano risultati del tutto sconfitti sul campo di battaglia comunque la Polonia conquisterà dei territori che verranno attribuiti successivamente nei trattati di pace dei territori che prima appartenevano alla Russia a questo punto la politica di Lenin appare come dire forzatamente rivolta verso il consolidamento della rivoluzione all'interno della Russia due erano le strade che fino a quel momento che era un momento di estrema emergenza si poteva pensare di percorrere ovvero la strada della rivoluzione mondiale della contaminazione all'intero mondo all'Europa se parliamo di mondo all'epoca parliamo principalmente di Europa poi dall'Europa si sarebbe sparsa nelle colonie gran parte degli altri continenti erano sotto il controllo dei paesi europei quindi la rivoluzione doveva scoppiare in Europa e la miccia doveva essere appunto accesa dai bolshevichi l'altra possibilità era quella di dedicarsi a consolidare la rivoluzione all'interno della Russia e questa è l'unica possibilità che dopo la sconfitta alle porte di Vazzavia rimane effettivamente in campo dunque dedichiamo tutte le energie al rafforzamento della rivoluzione e ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno perché la guerra civile non è affatto terminata altri focolai si accendono famosa è la rivolta dei marinai della base navale del Baltico nella città di Kronstadt inflazione mancanza di materie prime fame la gente continua a morire di fame sono le principali cause della ribellione dei marinai all'inizio i marinai di Kronstadt si erano schierati dalla parte di Lenin nonostante molti di loro fossero di origine contadina ma poi vedono che effettivamente la situazione del popolo non sta affatto migliorando e chiedono di continuare lungo la via della rivoluzione andando oltre la stessa rivoluzione bolshevica cioè dobbiamo battere il ferro finché è caldo dobbiamo eliminare quella che è una sorta di vera e propria dittatura che loro chiamano commissariocrazia la commissariocrazia fa riferimento a quei commissari politici che abbiamo visto nell'armata rossa affiancare gli ufficiali affiancare i militari quindi si parla di questa terza rivoluzione terza rivoluzione che non avrà mai modo di prendere piede perché Kronstadt viene spugnata dal generale bolshevico Tukacheschi il 18 marzo del 1921 quindi al 1921 si chiude anche questa ultima pagina questa ultima sequenza della rivoluzione russa rivoluzione russa che se avesse avuto modo di svilupparsi in separata sede avrebbe trasceso la stessa rivoluzione bolshevica sarebbe andato oltre la stessa rivoluzione bolshevica a questo punto si impone la necessità di ripensare la politica economica che fino a quel momento aveva contraddistinto lo sforzo politico di Lenin sforzo politico di Lenin che si era svolto in situazioni di assoluta emergenza bisognava requisire ecco perché si parlava di comunismo di guerra bisognava requisire il grano dalle campagne con le cattive però ecco questa situazione non può andare avanti non può andare avanti la gente continua a morire di fame le campagne vanno in qualche maniera pacificate bisogna ripristinare un minimo di fiducia nel governo bisogna fare pace con i contadini possiamo massacrare possiamo fare quello che ci pare ma alla fine per utilizzare il noto detto della mafia la pecorella la devo comunque lasciare in vita e anche piuttosto grassottella se poi la voglio tosare se me la mangio se la distruggo evidentemente oggi mi riempio la pancia ma domani come faccio a riempirmi la pancia e quindi viene ripristinata nelle campagne la cosiddetta NEP questa nuova politica economica viene ripristinata un minimo di libero mercato ecco di libero mercato nelle campagne quindi libero mercato vuol dire che i contadini o i piccoli proprietari possono rivendere alla città il grano con dei prezzi calmierati ma non imposti dall'alto per così dire e a fare le spese di questa NEP perché il governo boscevico è affamato di risorse di denari di risorse che bisogna spendere per consolidare il potere è la chiesa ortodossa anche qui altra pagina simile a quella della rivoluzione della rivoluzione francese vi ricordate la requisizione dei beni ecclesiastici con l'emissione successiva degli assegnati in epoca giacobina ecco la chiesa ortodossa viene come dire ridotta ai minimi termini i pope vengono perseguitati incarcerati alcuni vengono ammazzati brutalmente e questo provoca un'ulteriore sollevazione già la popolazione delle campagne come dire non ha certo in simpatia i boscevichi ma questa è una corrente profonda del popolo russo è profondamente devota alla chiesa ortodossa e lo rimarrà nei decenni successivi nonostante il tentativo fatto in 70 anni di comunismo di sradicare questa pestilenza della religione per così dire questo oppio dei popoli per disintossicare la popolazione russa non ci sono riusciti uno dei primi atti del governo russo dopo la caduta dell'Unione Sovietica è proprio quella di ripristinare i collegamenti gli onori e le proprietà della chiesa ortodossa ebbene Lenin all'epoca fa come dire incarcerare migliaia e migliaia di pope scoppia un'ennesima sollevazione da parte dei fedeli si parla di ben 1400 scontri in cui vengono coinvolti alcuni maggiori altri minori in cui vengono coinvolti i cechisti e in ultima istanza si parla della guerra di un governo contro il suo popolo cioè i russi i boscevichi utilizzeranno contro il popolo russo metodi coloniali quelli che vengono definiti metodi coloniali cioè quelli che le potenze europee imperialistiche avevano utilizzato a ogni piesso spinto quando era necessario contro i coloniali senza farsi minimamente scrupolo quindi parliamo di ostaggi parliamo dell'uso dei gas tossici e della costruzione di campi di concentramento l'avranno fatto gli inglesi l'avranno fatti i belgi nel Congo belga l'avranno fatti i francesi nelle loro colonie qual è la differenza è che mentre potenze imperialistiche lo avevano fatto e lo faranno lo farà anche l'Italia fascista in Etiopia parliamo anche lì di uso di gas di campi di concentramento lo faranno contro popolazioni allotrie coloniali per l'appunto i russi i bolshevichi lo faranno contro il loro stesso popolo ecco perché si parla di un governo contro il proprio popolo da qui i famosi lager a destinazione speciale nonché l'arcipelago Gulag che nasce proprio in questi anni il più famoso lager uno dei primi lager viene costruito viene attivato in un monastero presente nelle isole Solovski nel Mar Bianco quindi un luogo assolutamente gelido era un luogo dove i monaci ortodossi andavano a fare pratiche di ascetismo e diventa ecco un luogo di prigionia per gli internati a destinazione speciale cioè i nemici politici i nemici dei bolshevichi quelli che si vogliono per il momento risparmiare e li si manda in questa sorta di carcere gelato considerate che poi le altre destinazioni saranno tutto sommato simili a quella dell'isola del Mar Bianco perché saranno isole costruite in questo immenso territorio gelido nella tundra siberiana senza bisogno che ci siano recinzioni o armati a impedire la fuga dei prigionieri cioè qualche armato c'è evidentemente ma la fuga dei prigionieri è impedita dalle stesse condizioni atmosferiche climatiche che sono assolutamente proibitive l'introduzione della neppe provoca non c'è modo di arrestarla un'altra terribile carestia che si sviluppa tra il 1921 e il 1922 nella fotografia vedete come sono ridotti questi bambini russi agghiacciante insomma sembra di vedere immagini con le quali noi abbiamo familiarizzato a causa del cosiddetto terzo mondo quindi è un po' la stessa idea noi europei imperialisti ricchi e fasciuti abbiamo utilizzato queste armi di sterminio di massa di oppressione contro le plebi del terzo mondo di quello che diventerà il terzo mondo i russi e il terzo mondo ce l'avevano a casa e sono stati costretti diciamo a utilizzare questi metodi brutali a casa loro dopo la seconda guerra mondiale in piena guerra fredda quindi parliamo dell'arco parlamentare italiano dei partiti politici in Italia quelli attivi tra gli anni 50 e i primi anni 90 si dividono in partiti socialisti c'è un partito socialista c'è un partito social democratico italiano c'è il partito comunista italiano quindi questi tre termini sono tutti tre rappresentati il partito socialista quello di Nenni e di Pertini che comunque è un partito che crede nella rivoluzione la dicitura è quella che ho commentato prima il partito comunista di Togliatti che è vicino alle posizioni dell'unione sovietica Togliatti era stato per moltissimi anni alla corte di Stalin partito comunista che è considerato dalla CIA diciamo dalle potenze occidentali una sorta di quinta colonna dell'unione sovietica al di qua delle linee in quel frangente di guerra fredda ma comunque il partito comunista italiano alla fine sposerà pieno la democrazia parlamentare quindi non sarà un partito diciamo di rivoluzionario in quel senso e poi ci sarà anche un partito socialdemocratico che invece ha rinunciato effettivamente alla rivoluzione e quindi ancora più di centro-sinistra rispetto ai socialisti e ai comunisti dopo la fine dell'unione sovietica e il crollo del sistema URSS a quel punto rimane in piedi soltanto la possibilità socialdemocratica nel senso che i partiti comunisti europei dell'Europa occidentale si dissolvono sono costretti a cambiare nome no? Cioè Occhetto è il segretario del PC che deve trasformare sia esatto nascono i DS poi le querce gli ulivi e così via no? E quindi l'idea è quella che i partiti di sinistra hanno una sola causa da sposare che è una causa coerente in qualche maniera con il sistema liberal democratico o comunque accettato dalla visione che è quella quella anglosassone ecco si può essere di sinistra ma alla maniera dei laburisti inglesi il partito del lavoro inglese che era il più antico dei partiti israelisti o alla maniera dei democratici americani e infatti ora si chiama partito democratico cioè una vera e propria alternativa di sinistra poi anche a livello linguistico cessa di esistere cessa di avere senso perché ha vinto quel modello lì la democrazia alla maniera occidentale nessuno la mette più in discussione nessuno mette in discussione la premessa che è quella liberista cioè quella del libero mercato e quindi della causa come dire del liberismo internazionale del neoliberismo internazionale ed essere di sinistra dopo la fine dell'Unione Sovietica significa avere una mentalità al limite progressista riformista di centro-sinistra infatti non si parla più nemmeno di sinistra ma tutti i partiti di sinistra devono conquistare il centro in una logica bipolare in cui c'è un centro-destra e un centro-sinistra insomma gli schieramenti politici lo vediamo in Italia sempre parliamo dell'Italia tendono a scimmiottare perché quello è l'unico modello di riferimento che rimane i modelli anglosassoni cioè quello statunitense in particolare in cui c'è il bipolarismo repubblicani democratici definirsi di sinistra negli Stati Uniti è decisamente diverso rispetto a definirsi di sinistra in Italia o in Francia prima della caduta del muro di Berlino d'accordo? dopo tutto diventa si appiattisce cioè rimangono delle differenze qua e là in Europa ma il modello è quello e oggi continua a essere tutto sommato quello quindi sono battaglie di retroguardia ma insomma nessuno mette in discussione il libero mercato nessuno mette in discussione la tanto meno la democrazia parlamentare nessuno parla più di rivoluzione nessuno ha una visione internazionalista significativa o meglio ce l'hanno altri soggetti pensiamo al movimento ecologista pensiamo poi alla questione ambientale che è quella fondamentale ma questi soggetti non sono più rappresentati da forze cospicue all'interno di questo di quel Parlamento che si riconoscono sotto l'etichetta comunista piuttosto che socialista oggi se dici comunista te li fai a quei gruppuscoli ci sono dieci partiti comunisti che hanno lo 0,001% ogni tanto ricicciano fuori poi ci hanno provato a rifondarli ma sai è una questione di edizione hai visto come il termine comunista nasce in associazione al marxismo all'elenismo quindi alla rivoluzione russa quella è l'origine storica del termine comunista negli anni venti del ventesimo secolo quindi definirsi comunista significava definirsi vicino a quella visione poi uno poteva anche essere comunista ma critico e quindi non sposare appieno la linea del PQS del partito comunista dell'Unione Sovietica o tuonare a un certo punto anche contro l'imperialismo russo quando i russi invadono con i carri armati Budapest nel 56 o nell'epoca all'epoca della guerra in Afghanistan ti potevi dissociare in qualche maniera ma insomma definirti comunista significava seguire quella linea là dopo la fine dell'Unione Sovietica definirsi comunista è un termine diciamo come dire cambia significato l'Unione Sovietica non ci sta più quindi o ti riferisci ad una pagina della storia ormai girata e quindi scarsamente significativa senza pill perché io a che cosa mi riferisco effettivamente e oppure colleghi al termine comunista la visione marxiana non più quella leninista oppure c'è anche qualche disperato che potrebbe dire benissimo io no io sono rimango fedeli a Lenin oppure rimango fedeli a Mao Zedong ci sono anche i maoisti no quindi io vorrei rifare quella roba lì quella roba lì chiaramente non la puoi più fare anche perché la storia non si riproduce mai in due maniere diverse ecco da qui l'ambiguità del termine comunista il problema è quello che io ti dicevo al di là di tutte queste etichette che cambiano nel tempo perché la storia va avanti è quella di trovare un linguaggio nuovo per esprimere esigenze ideali di sinistra ma come dire al passo con i tempi cioè che incarnino quelli che sono gli ideali di oggi che progettino il futuro a partire dai problemi di oggi che non possono essere più quelli di un secolo fa cioè una riduzione russa quindi essere comunista come i tempi di Lenin anche se poi tutte le idee di Lenin non siano necessariamente da gettare via o tanto meno Marx che invece è da riprendere da ristudiare da rivisitare ebbene quel tipo di soluzioni per quel tipo di problemi non è più attuale allora devi ridefinire comunista la devi dire ok nel 2020 io mi definisco comunista comunista c'è tutta questa storia dietro non la rinnego però questa storia adesso è passata dunque al termine comunista do un nuovo significato ecco mi ritrovo nelle idee di Rio 92 ecco di quella causa lì o della causa delle plebi del terzo mondo insomma capito va un attimo ridefinito altrimenti faccio operazioni anacronistiche senza significato qui parliamo di termini il problema è che sono termini pesanti cioè quando io uso quel termine lo devo definire e per definirlo devo fare riferimento ad una visione ideale che però fa i conti con il presente quindi che mi aiuti a definire la situazione presente quella dell'oggi del 2020 e a proporre delle linee strategiche di azione politica coerenti alla soluzione dei problemi di oggi perché altrimenti corre il rischio di come dire di perdermi appresso a nostalgie passatiste e quindi di non dire nulla parliamo di stalinismo alla morte di Enin il 21 gennaio 1924 si trovano uno di fronte all'altro i due principali eredi di Lenin ovvero Trotsky e Stalin o Stalin acciaio è il nome di battaglia di Iosef Vassarionovic Jugosvili il nome non è russo il cognome non è russo è giorgiano nato a Tbilisi quindi nel 1879 Stalin ha alle spalle una carriera all'inizio di studioso in un seminario anche di aspirante poeta ci sono rimaste anche delle poesie scritte da Stalin particolarmente delicate non che fosse un grande poeta non credo che la letteratura russa abbia perso un genio comunque a vent'anni ha abbandonato il seminario e si è dedicato ad un'altra attività ecclesiastica in un certo senso che è quella della rivoluzione non la causa della rivoluzione anche Stalin come Lenin come poi i principali dirigenti del partito bolshevico hanno alle spalle quindi un'attività di organizzatori di rivoluzioni Stalin è anche personaggio convinto che con la violenza cioè con atti di terrorismo si possano risolvere determinate le questioni quindi si fa i suoi anni di galera i suoi anni di confino e così via nel 1924 dopo essersi fatto le ossa come commissario dell'armata rossa e prima ancora come commissario alle nazionalità nel primo governo di Lenin diciamo si è conquistato un posto di tutto rispetto all'interno del partito bolshevico può aspirare alla successione visto che si tratta di una vera e propria successione invece Trotsky godeva di un enorme prestigio per aver vinto la guerra civile era il comandante dell'armata rossa e dunque aveva il merito di aver salvato per via militare la rivoluzione d'ottobre ora le due posizioni sono contrapposte in che senso Trotsky era sempre stato favorevole al concetto di rivoluzione permanente di cui aveva parlato anche Lenin in certa misura cioè portare avanti la rivoluzione mondiale fino alla conquista delle roccaforti dall'asse operaia in occidente quindi la rivoluzione si sarebbe dovuta diffondere dalla periferia dell'Europa periferia in tutti i sensi e soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo il progresso industriale e sociale cioè la Russia e esportarlo in occidente in Europa centrale quindi in Germania e poi in Europa occidentale lì la torcia la brace della rivoluzione russa avrebbe dovuto diciamo incendiare questo materiale ampiamente incendiabile cioè le classi operai occidentali e far scoppiare e detonare la rivoluzione mondiale da qui il concetto di rivoluzione permanente insomma l'episodio russo si deve inserire all'interno di un contesto che è quello mondiale secondo Trotsky in effetti non c'erano alternative a questa possibilità perché se la rivoluzione si fosse fermata soltanto alla Russia e soltanto alla fase borghese cioè se la Russia invece di diventare comunista si fosse orientata verso un governo liberal democratico è quello che aveva provato a mettere in piedi Caneschi tanto per capirci sarebbe stata inevitabilmente travolta dunque bisognava per forza andare oltre era un imperativo imperativo politico imperativo storico o peggio se si fosse fermata soltanto alla fase della cosiddetta dittatura del proletariato cioè la fase dittatoriale quella di emergenza quella che prende piede tra il 17 e la fine del 17 e la fine degli anni 20 che è il clou della guerra civile alla fine si sarebbe tradita sarebbe stata snaturata e tradita ma in effetti da questo punto di vista Trotsky forse ha anche ragione se consideriamo il periodo successivo quello straliniano come un tradimento dei principi del comunismo leninista tradimento fino a un certo punto beninteso perché c'è anche una certa continuità con Lienin e allora forse aveva ragione Lienin aveva ragione Trotsky cioè effettivamente le cose dovevano andare in quell'altra direzione però è un dato di fatto l'armata rossa non passa a Varsavia si ferma lì cioè lo sforzo militare dell'armata rossa non è in grado in quel momento storico di portare la rivoluzione al di là della vistola ci si ferma lì e bisogna rafforzarsi perché a questo punto la giovane Unione Sovietica è un paese come dire assediato assediato come centrale di diffusione della rivoluzione mondiale che viene presa in maniera estremamente seria come pericolo concreto dagli alleati di una volta quelli dell'intesa in primis cioè la Francia la Gran Bretagna gli Stati Uniti in Italia e così via anche Lenin dicevo come Trotsky aveva pensato più o meno le stesse cose per questo aveva fatto la rivoluzione d'ottobre la rivoluzione d'ottobre per Lenin era il momento iniziale di una rivoluzione che poi doveva andare seriamente oltre i confini della Russia quindi la rivoluzione d'ottobre era la prosecuzione e il completamento della rivoluzione di febbraio questo era il pensiero di Lenin tuttavia ecco dal momento in cui l'armata rossa si ferma sotto le porte di Varsavia il diktat l'imperativo politico è la difesa dell'Unione Sovietica Unione Sovietica che diventa la patria del socialismo del socialismo internazionale o per meglio dire del comunismo ricordatevi quella svolta semantica di cui dicevamo nella precedente elezione a questo punto i bolshevichi non si chiameranno più socialdemocratici ma si chiameranno comunisti e anche il cominterne cioè la prima internazionale comunista nel senso creata da Lenin e dall'Unione Sovietica prenderà il nome di internazionale comunista quindi questa è la differenza con le precedenti internazionali questa della difesa a tutti i costi dell'Unione Sovietica come patria del socialismo quindi la costruzione del socialismo in un solo paese è la linea politica di Stalin il quale sostiene la rivoluzione per tappe invece che la rivoluzione permanente la rivoluzione permanente non la possiamo sostenere non abbiamo le forze per farlo quindi fermiamoci qui abbiamo portato a termine la prima tappa dobbiamo adesso pensare alla seconda tappa la seconda tappa si basa sulla possibilità uno di resistere a questa aggressione concentrica delle potenze capitalistiche e poi di rafforzare l'Unione Sovietica costruendo le sue basi industriali a tappe forzate a tappe ma sono sempre tappe forzate ben inteso per poter poi sostenere successivamente quello sforzo che nel 1920 non era possibile sostenere questa è la logica fermiamoci tiriamo il fiato nel frattempo siccome dobbiamo colmare un gap un dislivello che è tecnologico economico dobbiamo colmare questo dislivello su cui si basa l'arretratezza dell'apparato produttivo industriale quindi militare dell'Unione Sovietica lo facciamo lo facciamo il più velocemente possibile militarizzando l'intera società e l'intera produzione per poi presentarci pronti al momento della bisogna a questo momento della bisogna cioè il luogo in cui poi si svilupperà la guerra mondiale quasi come dire quasi ovvia inevitabile ineluttabile è il luogo della seconda guerra mondiale da qui per esempio la tesi di quel Nolte di quello storiografo tedesco tesi molto discuribile ma insomma interessante da un certo punto di vista ovvero il nazismo i fascismi europei sarebbero nati come risposta al comunismo russo quello bolshevico ovvero in difesa dell'Europa cioè tutto sarebbe nato dalla rivoluzione russa siccome la rivoluzione russa aveva il progetto ed effettivamente era così di esportare la rivoluzione a livello mondiale dunque bisognava alzare un'argine una difesa e quindi i movimenti fascisti i totalitarismi di destra sarebbero nati come risposta alla rivoluzione mondiale proposta e sostenuta dai bolshevichi e la militarizzazione dell'Europa della Germania nazista in particolare è come dire il contraltare della militarizzazione progressiva dell'Unione Sovietica cioè più l'Unione Sovietica si sforza di preparare in maniera paranoica ma la politica da questo punto di vista è paranoica di prepararsi alla guerra mondiale cioè all'aggressione concentrica delle forze nemiche delle forze antirivoluzionali a livello globale a questo punto la faccenda non è più soltanto europea come ai tempi della rivoluzione francesi a parte che pure a quel tempo c'erano le colonie ma diventa una questione mondiale allora la Russia sovietica si prepara per questa guerra che inevitabilmente sarà mossa contro la stessa Russia quindi la rivoluzione è cerchiata lì d'altro canto le altre potenze contro rivoluzionarie o reazionarie ecco i totalitarismi di destra si preparano all'aggressione che invece verrà dalla Russia l'uno interpretando in maniera paranoica il pensiero dell'altro si vis pacem para bellum dicevano i romani ma a forza di preparare la guerra alla fine anche la pace va a farsi benedire questo è evidente quindi chi inizia Stalin o Hitler chi inizia il mondo occidentale o il mondo orientale di chi è la responsabilità di quel ventennio intermedio tra le due guerre perché se la rivoluzione russa è figlia della grande guerra indubbiamente la seconda guerra mondiale peraltro ancora più devastante della grande guerra è figlia della stessa rivoluzione russa direttamente o indirettamente della reazione alla rivoluzione russa quella che si prepara appunto nel ventennio tra le due guerre nonché aggiungo della crisi del capitalismo mondiale quella che si evidenzia con il crollo della borsa di Wall Street del 1929 quindi capite che il periodo che va dalla grande guerra alla seconda guerra mondiale che nel caso della Russia è caratterizzato dal cosiddetto stalinismo è un periodo cruciale in cui le potenze si confrontano a distanza l'una temendo come dire l'aggressione dell'altra quindi l'una preparandosi all'aggressione dell'altra e preparandosi evidentemente anche a delle guerre preventive questo è il senso che poi è il senso della propaganda nazista quando sarà il 22 giugno del 1941 è il senso dell'aggressione dell'Unione Sovietica come la giustifica propagandisticamente il terzo Reich il partito nazista come aggressione anticipata guerra preventiva termine che si usa anche oggi no? questo attacco preventivo in realtà noi stiamo facendo una guerra per difenderci e aggrediamo preventivamente un nemico che si è già organizzato contro di noi e gli diamo il primo colpo in modo tale che poi non si rialzi più ecco questa è la logica con cui ragionano sia gli uni che gli altri Stalin la guerra non la vuole fare la rimanda e la rimanderà anche nel corso degli anni 30 perché in qualche maniera sa perfettamente che l'Unione Sovietica ancora non è pronta dal punto di vista industriale e militare d'accordo quindi vedete che la logica di Trotsky e la logica di Stalin sono due logiche diverse sul metodo sulle tappe sulla politica da svolgere ma che in ultima istanza l'unica speranza la principale speranza della rivoluzione bolshevica consistesse nell'esportazione a livello globale quindi in questo progetto di internazionale comunista di rivoluzione a livello mondiale è comunque un dato che unisce il pensiero dell'uno a quello dell'altro o meglio che deriva poi dalla visione di Lenin d'accordo? sono in disaccordo su come arrivare a questa situazione per Trotsky occorre battere il ferro finché è caldo per Stalin invece bisogna procedere per tappe prima rafforzarsi all'interno e poi evidentemente prepararsi alla guerra o fare la guerra inutile dire che questo braccio di ferro lo vince Stalin è decisamente più attrezzato politicamente all'interno del partito bolshevico la sua linea alla fine trionfa lui scala tutte le posizioni burocratiche del nuovo cursus sonorum bolshevico alla fine la linea di Trotsky viene sconfitta Trotsky nel 1927 viene condannato spulso dal partito bolshevico imprigionato in Russia e poi espulso definitivamente dalla Russia se ne andrà in Messico prima girerà insomma per il mondo poi alla fine si trasferirà a città del Messico e nel 1940 sarà raggiunto da un sicario di Stalin che gli spaccherà la testa a colpi di martello questa è la fine poi di Trotsky e comunque rappresentava finché era in vita un'alternativa significativa al regime staliniano c'erano dei comunisti o parte di alcuni partiti comunisti che si riconoscevano nella visione di Trotsky quindi si definivano trotschisti e il regime staliniano procede ad una epurazione quindi non solo fisica ma anche come vedete masmediologica mediatica questa è la famosa fotografia che ritrae Lienin che sta pronunciando un discorso al tempo della rivoluzione di ottobre figura sulla destra Trotsky con addosso alla divisa la comandante dell'armata rossa questa è la fotografia originale quella che avete a sinistra a destra dopo il fotoritocco invece la figura di Trotsky scompare quindi una vera propria d'amnazio memoria la storia la si riscrive ma del resto Orwell non è che si è inventato nulla nel suo famoso 1984 e vedete come le tecniche di ridefinizione delle fotografie esistevano già all'epoca quando ancora photoshop e i computer erano là dall'essere pensati e dall'essere costruiti quindi una vera e propria d'amnazio memoria di Trotsky e del partito di Trotsky il progetto di Stalin dunque si traduce nella industrializzazione a tappe forzate della Russia il motto è il seguente il motto della politica di Stalin il soviet più l'elettricità fanno il comunismo il soviet è il sistema sovietico è l'organizzazione del partito che già conosciamo l'elettricità l'elettricità rappresenta l'industrializzazione quindi non basta soltanto il soviet ci vuole anche l'elettricità e quindi il popolo si deve sacrificare si deve sacrificare nel suo stesso interesse quindi la dittatura del proletariato diventa dittatura del partito la dittatura del partito diventa dittatura del leader quindi si va verso un totalitarismo basato sulla figura del leader come accade anche nei totalitarismi di destra i Führer i Lusci che dir si voglia qui abbiamo il segretario generale del PQS che è capo dell'Unione Sovietica che è Stalin e quindi assume come dire una sorta di deus ex machina alla fine sarà quasi divinizzato ecco l'industrializzazione a tappe forzate in primo luogo viene abolita la NEP la NEP è la nuova politica economica quella che Lenin a malincuore aveva dovuto inaugurare dal 1921 in poi cioè dalla fine del comunismo di guerra il comunismo di guerra si era rivelato non solo impopolare evidentemente ma anche inefficace il comunismo di guerra prevedeva velocemente la requisizione dei grani dalle campagne quindi una produzione che doveva essere spostata verso le città e verso l'armata rossa questo imponeva ai contadini turni di lavoro massacranti li privava di ciò di cui avevano bisogno li portava quindi a fare scambi nel mercato nero perché i prezzi imposti dal partito boscevico dal governo centrale sovietico erano prezzi ridicoli non gli consentivano loro di vivere le campagne nel frattempo si erano spopolate erano percorse da eserciti insomma Lenin si rende conto che se la produzione delle campagne deve un pochino riprendersi è necessario concedere un minimo di libertà quindi rifondare la piccola proprietà terriera in modo tale che i contadini si sentano stimolati a produrre e possano condurre una vita decente ma per questo bisogna introdurre almeno una microproprietà privata quindi un passo indietro ora la NEP effettivamente aumenta un pochino la produttività delle campagne russe anche se pensate negli anni venti il livello di produttività delle campagne russe non tornerà mai ai livelli dell'epoca zarista quelli di prima della grande guerra e tuttavia la NEP deve essere secondo Stalin abbandonata perché bisogna tornare a quella politica di riorganizzazione ferrea del lavoro delle campagne perché prioritaria è l'industria ecco il senso della formula il soviet più l'elettricità è l'industria l'industria pesante l'industria dell'acciaio in particolare perché quell'industria lì è l'industria strategica funzionale alla produzione di armamenti al riarmo della Russia è funzionale dunque in prospettiva a quella guerra mondiale di esportazione della rivoluzione step by step veniremmo oggi usando questa brutta formula americana che comunque era nei pensieri nella strategia complessiva dell'unione sovietica quindi bisogna aumentare a tutti i costi la produttività non importa a quali sacrifici sarà sottoposta la popolazione nelle campagne vengono creati a partire dal 29 in poi vengono creati i cosiddetti colcoz i culachi cioè i contadini che avevano formato i contadini un po' arricchiti che avevano formato una classe medio-bassa nelle campagne vengono privati delle terre ma vengono poi perseguiti come nemici del popolo quindi o ti adatti a diventare operaio agricolo nei colcoz che significa operaio agricolo nei colcoz significa che la terra è della comunità dunque se tu hai una mucca o una pecora oppure hai due galline che facevano le uova per sfamare la tua famiglia quelle galline diventano della comunità e tu diventi un impiegato un operaio all'interno di una comune in cui a gestire il prodotto complessivo della comune a ridistribuirlo è il leader locale che fa capo al partito quindi alle città al centro del potere politico dell'Unione Sovietica tutto è organizzato dall'alto in maniera estremamente verticale e burocratica e questo significa condannare molti contadini alla povertà o comunque diminuire in maniera considerevole il benessere di quelli che erano riusciti in qualche maniera ad arricchirsi ma poi magari ci stavano sicuramente anche gli approfittatori o quelli che facevano il mercato nero ma insomma prima di rinunciare alla gallina il contadino ci pensa tante volte anche perché guardate bene il discorso è molto generale qui non si tratta di essere un po' più ricchi un po' meno ricchi di cedere qualcosa anche al vicino e così via la differenza a volte molto sottile tra l'essere in vita rimanere in vita il morire letteralmente di fame cioè qui parliamo di operazioni che ti portano via lo stretto necessario non che ti portano via il superpo chi si oppone finisce in Siberia nel sistema Gulag una curiosità Gulag è in realtà la sigla che si riferisce all'apparato amministrativo centralizzato che gestiva i campi i campi in russo si dicono lager quindi si usa lo stesso termine che usano anche i tedeschi lager quindi Gulag lag sta per lager gu è la sigla che si riferisce invece al diciamo all'apparato amministrativo che doveva gestire i lager a livello nazionale su tutto il territorio sovietico quindi un'operazione burocratica interminabile quindi chi si oppone va a finire i Gulag viene perseguito e in molti casi i Gulag vengono proprio eliminati fisicamente questo perché perché nel frattempo partono i cosiddetti piani quinquennali che sono piani di industrializzazione a tappe forzate dell'unione sovietica dal 1929 al 1934 abbiamo il primo piano quinquennale lì ci sono come dire dei punti d'arrivo che sono assolutamente da rispettare tappe forzate significa questo in cinque anni la produzione russa in settori strategici come quello dell'acciaio quello degli armamenti quello dei trattori poi le fabbriche che producono trattori facilmente si possono riconvertire in fabbriche che producono carri armati in caso di guerra debbono raggiungere uno standard pari al doppio di quello iniziale quindi la produzione deve raddoppiare ogni cinque anni anzi no Stalin aveva previsto che la produzione dovesse triplicare in cinque anni quindi pensate che sforzo riescono invece a raddoppiarla che è un risultato grandioso se lo andiamo a vedere in termini di cifre in termini statistiche certo il prezzo che la popolazione russa deve pagare è un prezzo enorme quindi aumentare la produttività a tutti i costi significa compressione dei salari quindi diminuzione dei consumi quindi la vita lo stile di vita del cittadino sovietico medio diventa ancora più povero quindi vengono sacrificati i beni di consumo aumentano le file davanti ai negozi alimentari ma figuriamoci i vestiti manca anche il burro mancano anche le cose fondamentali rigida disciplina della vita di fabbrica che viene militarizzata altro che possibilità di fare sciopero assolutamente abolita cioè la patria del comunismo non si poteva fare sciopero questo sembra paradossale ma è così incentivato il lavoro a cottimo il lavoro a cottimo è quando lavori diciamo ore extra ti vengono pagate per quello che effettivamente fai una sorta di premio di produzione e per esempio l'eroe dell'unione sovietica è un mito questo che viene creato è il famoso Alexei Stakanov questo omone che sta al centro della fotografia da cui stakanovismo viene premiato come eroe del lavoro pare che avesse raccolto più di 30 volte lo standard di carbone dalle miniere in cui lavorava lo standard quello previsto per il lavoratore normale nel corso di una giornata diventa eroe dell'unione sovietica simbolo quanto è assolutamente controllato dal partito quindi libertà di espressione libertà di critica sono praticamente messe al bando anche all'interno dello stesso partito bolshevico che all'inizio aveva posizioni differenziate per esempio una posizione contraria alla programmazione industriale ai piani di Stalin è espressa da un altro dei bolshevichi della prima ora Bukharin il quale invece continua ad essere favorevole alla NEP ma anche lui verrà fatto fuori in particolare il processo e poi la morte di Bukharin avverranno nel periodo del grande terrore quello tra 37 e 38 l'epoca delle cosiddette grandi purghe quindi l'agricoltura è spesso utilizzata anche per l'esportazione cioè si produce un sacco di grano ma invece di sfamare la popolazione dell'Unione Sovietica questo grano viene utilizzato come merce di scambio verso l'estero per importare capitali tecnologie o materie prime di cui la Russia non dispone più materiali e tecnologie effettivamente perché l'Unione Sovietica ha diciamo delle capacità di produzione di materie prime praticamente illimitate insomma a parte per l'estensione del territorio l'Unione Sovietica ha la possibilità negli anni 30 anni di recessione di crisi economica mondiale di diventare quasi del tutto autonoma no quello che gli manca effettivamente è la tecnologia che spesso e volentieri prenderanno dai tedeschi in cambio di materie prime pensate che il rapporto di alleanza di scambi economici di tecnologie di conoscenze con la Germania quello iniziato con il trattato di Rapallo del 1922 proseguirà fino praticamente all'inizio della seconda guerra mondiale anche dopo l'inizio della seconda guerra mondiale intendo dire il capitolo della guerra che si sviluppa a partire dal giugno del 1941 in poi cioè l'attacco della Germania nazista all'Unione Sovietica pensate che l'ultimo treno che porta merci dall'Unione Sovietica carbone petrolio verso il Terzo Reich passa transita attraverso il confine tedesco sovietico la Polonia era stata annessa e conquistata poi annessa dei due paesi quindi il confine tedesco russo era stato stabilito dalla ex Polonia transita qualche ora prima dell'inizio dell'operazione barbarossa i russi quindi danno materie prime i tedeschi in cambio forniscono istruttori militari tecnologie tank così via e i russi danno anche ai tedeschi la possibilità assistendoli fino agli anni 30 e danno la possibilità di ricostruire all'estero l'esercito tedesco perché il trattato di Versailles aveva imposto una riduzione significativa degli armamenti della Germania che ancora è la Germania di Weimar non è ancora la Germania nazista quindi un numero molto ridotto di cannoni di carri armati e così via in questo l'assistenza militare russa ai tedeschi è significativa cioè i tedeschi possono costruire un esercito in territorio russo sotto mentite spoglie possono addestrare lì i loro soldati e quindi non figurano questi soldati come aggiunti ai 100.000 standard e quindi tutto ciò che viene prodotto dall'agricoltura è destinato all'esportazione questo significa requisizioni forzate in particolare in Ucraina che è il granaio della Russia e questo significa tra il 32 e il 33 quello che in Ucraina si ricorda ancora come olodomor con olodomor si intende genocidio il termine olodomor significa carestia il genocidio effettivamente provocato dalle politiche staliniane che ebbe luogo tra il 1932 e 1933 in cui morirono milioni di persone c'è chi parla di 7 milioni di persone o più non vengono ammazzate direttamente da questo da quell'ufficiale sovietico ma muoiono letteralmente di fame è una pagina abbastanza significativa in termini numerici in termini diciamo di di scandalo ecco poi di queste cose se è saputo poco o nulla si scopriranno dopo in particolare se inizia a parlare dopo la fine dell'unione sovietica e se ne parla ancora oggi è uno dei motivi dei dissidi tra l'ucraina e la russia di oggi e questo è il prezzo che bisogna pagare l'altro prezzo sono i processi sommari e l'epoca delle grandi burghe durante le quali tra il 37 e il 38 non solo Stalin agirà contro i personaggi diciamo le classi sociali scomode vedi i kulaki quelli li aveva già eliminati ma contro lo stesso partito bolshevico no farne le spese sarà quel bucarin che dicevamo prima non solo lui ma anche una gran parte degli ufficiali dell'armata rossa che viene praticamente distrutta completiamo il discorso sull'epoca staliniana esaminando gli enormi costi che la popolazione russa dovette pagare in cambio di quello sviluppo industriale effettivamente titanico che Stalin riuscì ad ottenere con i suoi piani quinquennali uno sforzo titanico che mise la Russia all'Unione Sovietica in condizione di gareggiare alla pari con le principali potenze del tempo e che poi effettivamente rese l'URSS protagonista della politica di potenza della seconda parte del secolo no l'epoca del bipolarismo in cui l'Unione Sovietica titaneggia insieme all'altra superpotenza quella statunitense nel confronto per la supremazia a livello mondiale i costi umani tuttavia sono terribili terribili anche perché in questo caso non solo in questo caso ma anche in quello degli altri regimi totalitari vedi quello nazista per esempio e in parte quello fascista italiano i costi li dovette pagare la stessa popolazione russa quindi come abbiamo detto precedentemente l'atteggiamento il comportamento le pratiche messe in atto contro la stessa popolazione russa assomigliarono in maniera significativa a quelle messe in atto dalle potenze occidentali nei confronti dei popoli coloniali e in particolare il sistema staliniano riprende quella che è una tradizione di epoca zarista in effetti l'ursa aveva ereditato dalla russia zarista la pratica di recludere in appositi campi di concentramento situati per lo più in siberia gli oppositori politici o i nemici di classe abbiamo visto all'inizio questa è la sorte che spetta ai socialdemocratici o ai socialisti rivoluzionari che si opponevano ai disegni del partito bolshevico ma che poi riguarderà gli stessi membri del partito bolshevica dissidenti rispetto alla linea staliniana perché se effettivamente dopo la rivoluzione d'ottobre si può parlare di dittatura bolshevica di dittatura leniniana successivamente i dissidenti li si va a cercare non solo nelle sinistre alternative al partito bolshevico quelle sono state già in gran parte spazzate via ma all'interno dello stesso partito bolshevico soprattutto a seguito del dissidio della spaccatura politica tra Trotsky e Stalin tra Stalin e gli altri membri del partito bolshevico che avevano visioni alternative o in parte diverse rispetto alla sua per esempio Bukharin il quale come abbiamo visto concordava con la politica economica di Lenin quella che aveva lasciato in realtà a Lenin la famosa NEP che Stalin aveva rimesso in discussione azzerandone i benefici con i piani quinquennali i campi di prigionia situati in Siberia erano molto duri con una mortalità estremamente alta mortalità estremamente alta non provocata dal da un massacro per così dire programmato indiscriminato indiscriminato e è portato avanti su scala industriale come accadrà nei lager nazisti e qui la differenza è decisamente marcata ma di fatto la gente la si lascia morire di fame e di freddo quindi non occorrono nemmeno grosse barriere il clima è assolutamente ostile e non ci sono possibilità di fuga perché per fuggire da questi luoghi estremamente remoti con una densità abitativa rarefatta dunque fuggire da un gulag o da un lager sovietico significa dove percorrere centinaia e centinaia di chilometri nella steppa ghiacciata andando incontro a temperature che sfiorano anche i 40 e i 50 gradi sotto zero d'inverno senza cibo senza pane con vestiti precari quindi significa effettivamente morire andare a morte sicura a partire dal 1918 questi campi di concentramento furono destinati come abbiamo visto non solo alla reclusione dei prigionieri politici ma anche alla loro rieducazione ecco usiamo il termine tra virgolette perché effettivamente la rieducazione sotto un certo profilo era assolutamente pretestuosa la rieducazione suppone che attraverso un lungo e doloroso percorso l'imputato dovrebbe essere successivamente riammesso all'interno della comunità civile quindi reso diciamo un degno cittadino dell'unione sovietica ma questo naturalmente rimane sulla carta quindi si tratta di un lavaggio del cervello effettuato attraverso un cambiamento di stile di vita radicale gli uomini di fatto vengono brutalizzati quindi nessuna riabilitazione reale no perché questo tipo di rieducazione tra parentesi non restituisce effettivamente dignità all'essere umano ne distrugge alla base i diritti lo brutalizza lo animalizza altro che la liberazione dell'umanità la dissalienazione dell'umanità di cui parlava Max con la reclusione di fatto la collettività si difende dal delinquente conclamato e poi condannato in processo mentre con la rieducazione questo è il termine di differenza rispetto alla carcerazione in un sistema liberale si fa molto di più perché si decide effettivamente chi è fuori e chi è dentro rispetto alla comunità civile la rieducazione nel moderno campo di concentramento di fatto è un meccanismo mostruoso che prima di distrugge il corpo oltre a distruggere il corpo a minare alle fondamenta la salute del prigioniero ne annienta la personalità e seppure si esce vivi da questo trattamento dopo 10 15 20 anni di Siberia ci si porta appresso un danno profondo e irreversibile del proprio equilibrio psicologico cioè non si rieduca effettivamente il prigioniero per essere riammesso in una società libera come cittadino capace di rapporti significativi e produttivo ma di fatto si crea un personaggio depresso nemico dell'umanità nemico di se stesso incapace poi di prendere il proprio posto nella società qualora sopravviva effettivamente ma il regime vuole mano d'opera la maggior parte dei prigionieri ospitati nei lager sovietici viene utilizzata come mano d'opera schiavile per la realizzazione di opere infrastrutturali gigantesche estremamente significative a costo praticamente zero dunque una mano d'opera schiavile prelevata ottenuta dalla stessa popolazione va bene dalle classi considerate ostili o da presunti dissidenti ma essere dissidenti è un termine molto relativo a volte basta abitare porta a porta con qualcuno che è sospettato di un reato ideologico o di un presunto crimine che può anche essere quello di aver smesso di applaudire Stalin essere stato il primo a smettere di applaudire rispetto agli altri infatti ci si guarda sospettosamente non si vuole mai essere il primo è nell'ultimo della fila bisogna sempre confondersi nell'anonimato quindi si vive effettivamente nel terrore questo dunque è il danno fatto all'equilibrio psicologico alla socialità alla relazionalità del cittadino trasformato in suddito inserito all'interno del regime totalitario non solo quello staliniano anche se adesso stiamo parlando specificamente di quello staliniano questo a prescindere dal fatto che abbia assaggiato sulla sua pelle i rigori della detenzione in Siberia quindi immaginatevi in condizioni di freddo fame sofferenze fisiche estremi quali si determinano in questa forma di detenzione pensate chi è che ha maggiori possibilità di sopravvivere non certo le persone magari meglio disposte o quelle dotate di sentimenti filantropici più spiccati manco per niente riescono a sopravvivere soltanto quelli che in un sistema brutale ottengono con una brutalità ancora maggiore nei confronti dei dei loro compagni detenuti una posizione privilegiata il privilegio può essere per esempio l'esclusione da un lavoro particolarmente pesante oppure riuscire a mettere le mani su una razione di zuppa più consistente o su un pezzo di pane rancido in più come veniva nei lager nazisti per un pezzo di pane si era disposti a commettere dei crimini osceni e questi crimini ti uccidevano dentro disumanizzandoti ma la sofferenza fisica è tale e i morsi della fame sono tali che probabilmente tutti noi ciascuno di noi sceglierebbe la via più facile la scorciatoia quella della disumanizzazione la logica del mors tua vita mea ecco questo è un elemento psicologico fondamentale che ci serve per capire come funziona la vita del prigioniero nel gulag e non solo dicevo il minuscolo privilegio di un pezzo di pane fa la distinzione tra il vivere e il morire tra la vita e la morte e quindi per ottenerlo ci si piega a qualsivoglia forma di bassezza per non parlare della delazione no quindi ad essere premiati effettivamente sono quelli che risultano più predisposti a questo tipo di comportamento amorale quindi per esempio i delinquenti comuni che sono psicologicamente più attrezzati all'uso della violenza effettivamente e nonché più sprovvisti di quei valori morali che sono o che dovrebbero essere patrimonio del cittadino medio in ogni società ecco effettivamente sono loro a sopravvivere sono loro che hanno più chance di sopravvivere loro i riabilitati loro i salvati tutti gli altri i sommersi quindi invece di riabilitare i migliori si selezionano paradossalmente i peggiori i migliori sono etichettati con il termine fascisti a volte hanno effettivamente delle colpe più o meno importanti colpe sociali magari si sono arricchiti alle spalle dei più magari hanno messo da parte del cibo come i kulaki per sottrarlo alle razzie prima dei bolshevichi nell'epoca del comunismo di guerra e poi successivamente sottraendolo ai kolkots sovietici ai kolkots staliniani ma difficilmente si tratta di persone ricche o benestanti ecco per noi è difficile capire questo perché chiunque oggi metterebbe da parte l'ultimo pezzo di pane o il piatto di riso che avanza per immaginare di darlo domani ai figli non parliamo di ruberie particolarmente significative la maggior parte della gente effettivamente si ritrova senza sapere bene come spedita questi lunghi convogli ferroviari e poi costretta a fare decine e decine di chilometri a piedi nell'ultimo tratto sorvegliata da soldati muniti di fucile i quali a un certo punto ti abbandonano in mezzo al nulla e spesso sei tu con i tuoi compagni che devi effettivamente costruirti le baracche che ti ospiteranno nei giorni e nelle settimane a venire per non morire di freddo ma non sai come sei arrivato lì oppure forse sei arrivato per quel pugno di riso il delinquente comune invece è stato prelevato dalla sua cella dove scontava la pena per furto per omicidio e arriva lì con una forza in più una risorsa in più e più adatto alla sopravvivenza questo è un pochino il paradosso si inizia lo abbiamo visto nel 1923 con le isole Solovki che costituiscono la prima forma di lager sovietico le isole Solovki si trovano nell'Artico esisteva già un convento lì un convento ortodosso vengono poi trasformati questi locali per far posto a prigionieri politici vi vengono rinchiusi insieme a prigionieri politici spesso delle sinistre sconfitte dai bolshevichi ufficiali dell'esercito bianco nonché intellettuali che hanno ecco il vizio di essere anticomunistico che vengono reputati tali rapidamente il numero di questi campi si moltiplica finché appunto non bisogna creare un'amministrazione ad hoc che li gestisca GULAG è il nome di questa amministrazione in russo si usa come dicevamo il termine Lager per indicare il campo di concentramento quindi il GULAG è l'ente amministrativo che gestisce questo cosiddetto arcipelago GULAG che è estremamente complesso perché non c'è solo il campo di concentramento propriamente detto ci sono anche le prigioni di transito le carceri locali che vanno gestite i campi di lavoro forzato le ferrovie per trasportarli e tutti i soldati le guardie i poliziotti addetti alla sorveglianza al trasporto dei prigionieri quindi una organizzazione estremamente complessa nonché totalmente segreta spesso la gente comune non ne sospetta nemmeno l'esistenza finché non ci si trova invischiata dentro negli anni dello stalinismo i Lager furono quasi 200 si calcola questa cifra e vi vennero internati secondo stime approssimative tra i 10 e i 20 milioni tra i 10 e i 20 milioni non abbiamo dati certi di presunti oppositori presunti spesso si finiva nel Lager senza un regolare processo e secondo la logica inquisitoria si era come dire colpevoli fino a prova contraria e spesso la prova contraria non veniva mai e poi mai si era impossibilitati a produrla tra parentesi dunque molti di questi processi quando venivano celebrati erano dei veri e propri processi farsa una parte significativa anche qui non la possiamo calcolare la possiamo soltanto stimare in maniera molto grossa dei prigionieri non sopravvisse al trattamento ma sopravvivere al trattamento vuol dire poi magari portarsi appresso degli strascichi significativi per tutta la vita forse per alcuni versi è meglio perire anche fisicamente piuttosto che perire solo psicologicamente ecco negli anni del più rigido controllo staliniano quelli nel cosiddetto grande terrore no? è l'intero partito bolshevico come abbiamo visto che viene messo in discussione la vecchia guardia cioè quelli che avevano fatto la rivoluzione d'ottobre ne sopravviveranno pochissimi oltre a Stalin e ai suoi stretti collaboratori possiamo dire che alla fine il partito bolshevico delle origini viene quasi interamente distrutto perché il sospetto di una delle tante eresie che potevano contrastare il potere di Stalin cade sulla gran parte dei suoi membri eresie e il termine è esattamente questo perché questa forma di ideologia ricalca per molti versi anche qui non scopriamo nulla di nuovo quella che è una visione dogmatica fortemente ideologizzata tipica delle religioni no? e quindi tipica per esempio della religione cattolica quella che ha prodotto l'inquisizione spagnola e poi l'inquisizione romana e anche i metodi processuali per molti versi assomigliano a quelli inquisitori tra questi ovviamente la presunzione di colpevolezza e il ricorso a strumenti di pressione o di tortura una tortura è assolutamente praticata e se non si tratta di tortura fisica diretta si parla comunque di tortura psicologica sempre ammesso che la fame o il freddo non possano effettivamente essere considerate a tutti gli effetti delle forme di tortura e così insomma furono decimati i gruppi dirigenti di tutti gli altri partiti comunisti ospiti all'interno dell'URSS perché nell'URSS staliniano negli anni venti e gli anni trenta emigreranno anche molti fuggiaschi dall'Italia per esempio Poi Biatti è rimasto alla corte di Stalin fino alla fine della seconda guerra mondiale quando poi ritornerà in Italia per organizzare il PC italiano gran parte dei comunisti ungheresi tedeschi oltre che italiani francesi spagnoli che si rifugiarono alla corte di Stalin all'interno del Comintern quindi della terza internazionale e saranno sottoposti allo stesso trattamento dei loro compagni boscevichi russi a combinare queste condanne nei processi farsa erano di fatto dei funzionari di partito che fungevano allo stesso tempo da giudici istruttori e da magistrati giudicanti quindi non esisteva in questa forma processuale della differenza che è sacrosanta che funziona nel nostro ordinamento tra giudice inquirente pubblico ministero e giudice giudicante sono la stessa persona la pubblica accusa e chi deve mettere alla fine il verdetto ma questo lo vedremo anche poi nella Germania nazista no sono processi politici la sorte di prigioniere è già segnata mei lager si lavorava all'enorme sforzo di industrializzazione dei primi piani quinquennali e poi della produzione bellica quindi i prigionieri di kulag partecipano come abbiamo visto prima quella costruzione delle grandi infrastrutture allo sforzo di industrializzazione di ammodernamento complessivo dell'unione sovietica poi i stessi prigionieri durante la guerra saranno messi a lavorare in condizioni terribili agli armamenti che costituiranno la spina dorsale dell'armata rossa quelli che serviranno per ricacciare indietro i nazisti insomma se i tedeschi durante la guerra utilizzeranno mano d'opera più o meno schiavile nei loro campi di concentramento o prelevando lavoratori coatti da tutti i paesi sottoposti al loro controllo compreso il nostro di paese e mettendoli a lavorare nelle fabbriche mentre i cittadini tedeschi in gran parte finivano arrollati nella Wehrmacht e mandati al fronte la Russia ha una ampia disponibilità di mano d'opera schiavile in casa propria non ha nemmeno bisogno di importarla torniamo allo stesso concetto di prima un governo che è nemico del proprio popolo che tratta il proprio popolo come nemico e alla fine non ci si educava affatto ai valori della rivoluzione socialista quindi altro che rieducazione si educa invece la gente all'asservimento alla brutalizzazione al nichilismo alla lotta per la sovravvivenza ecco tra il 37 e il 38 si verifica l'epoca delle cosiddette grandi purghe o del grande terrore sono effettivamente gli anni più cupi del terrore staliniano che era stato scatenato dal misterioso assassino ancora oggi non si è chiarita del tutto questa vicenda di Sergei Kirov un membro del partito bolshevico un dirigente del partito bolshevico che era molto vicino a Stalin anche se anche lui forse troppo famoso tale forse da mettere in ombre in qualche maniera Stalin qualcuno sospetta che sia stata la stessa polizia segreta staliniana ad ammazzarlo ma insomma comunque se non andate le cose il regime staliniano prende la palla al balzo prende il pretesto di questa uccisione per dare un'ulteriore stretta alla società russa del tempo questo periodo quindi dicevamo è passato alla storia con il nome di grandi purghe quelle che decapitano effettivamente il partito bolshevico e lo priveranno alla fine del percorso alla fine degli anni trenta di ogni forma di dialettica interna quindi anche quel po' di democrazia quindi di libero discorso presente all'interno del partito bolshevico poi alla fine prevaleva la democrazia dirigista per così dire cioè si parlava meglio si parlava all'interno del partito bolshevico dopodiché una volta che si era assunta a questo ai tempi di Lenin una decisione quella decisione la si portava avanti in maniera spietata ostinata quindi non si poteva tornare indietro ecco la revisione era decisamente complicata né erano tutelate per così dire le opzioni di minoranza manco per niente ecco però un certo tipo di dibattito all'interno del partito bolshevico fino alla morte di Lenin e anche poi nei primi anni del dominio staliniano che poi inizierà ufficialmente intorno al 1927 ancora si manteneva con la fine degli anni trenta e con la scomparsa della gran parte dei membri del partito bolshevico della prima ora questo dibattito interno fu assolutamente azzerato furono eliminati tutti i trotschisti quelli inudore di essere trotschisti trotschi nel frattempo era stato esiliato si era rifugiato a città del Messico come sappiamo e furono eliminati Zinov e Kamenev e quel Nicolae Bukharin di cui dicevamo Bukharin fu addirittura accusato di voler ricostruire il capitalismo gli fu imposto di confessare di essere un agente al soldo degli occidentali di questa congiura dei paesi capitalisti volta a distruggere il regime sovietico quindi a minare la rivoluzione alle fondamenta dal momento che le sorti della rivoluzione mondiale e quelle dell'URSS erano legate a doppia mandata e pensate che la maggior parte di questi ex dirigenti del partito bolshevico compreso Bukharin per non arricare danno alla causa pensate quant'erano fedeli alla causa si lasciarono convincere a confessare tutti i crimini quelli immaginari peraltro che gli venivano imputati l'unico crimine che Bukharin non si sentì proprio di confessare era quello di aver voluto uccidere di Eni di aver cospirato per ammazzare di Eni beh questo gliel'hanno fatta passare liscia questa cosa ma non si salvò comunque dalla condanna a morte per fucilazione si rendeva conto che per lui era comunque finita e sperava quantomeno con questa confessione di salvare i suoi cari e chi gli era stato fedeli i suoi amici nessun comunista della sua generazione era in grado come dire di dissentire la causa della rivoluzione per loro era così importante che erano disposti effettivamente a sacrificare la vita cioè questo è il paradosso e che è anche commovente in un certo senso cioè loro decidono anche di lasciare che il loro nome venga infangato piuttosto che creare un'ulteriore spaccatura all'interno del partito bolshevico in questa maniera servendosi di più al totalitarismo staliniano le vittime le vittime delle grandi purghe furono molte centinaia di migliaia forse milioni ma anche qui non abbiamo cifre esatte comunque le stime più prudenti parlano di mezzo milione di morti per fucilazione senza contare poi tutti quelli che furono inghiottiti come dicevamo dal gulag ad ogni modo la tragedia quantitativamente più grave in termini di vittime venne senza dubbio dalla collettivizzazione forzata delle terre che di fatto comportava la distruzione del ceto dei contadini proprietari quei kulachi di cui abbiamo detto piccoli proprietari con piccoli appezzamenti di terra si parla di almeno un milione di nuclei familiari considerati contadini ricchi che furono sostanzialmente annientati ecco a inizio degli anni trenta di questa gente si era persa letteralmente le tracce le loro terre le loro case erano state riassegnate ai nuovi operai dei kolkots operai contadini la pravda il famoso quotidiano del partito comunista nel 1929 titolava così avanti per la grande azienda collettiva con la mietitrebbia e con il trattore sovietico taglieremo alle radici lo sfruttamento capitalistico estirperemo gli elementi capitalisti dal villaggio elementi capitalisti si rattava spesso e volentieri di contadini male inarnise che magari rispetto ai loro vicini che comunque non era poco avevano un cavallo una vacca un maiale questi sono i culacchi c'erano evidentemente anche quelli che si erano effettivamente arricchiti con la borsa nera e si erano arricchiti a danno dei loro compatrioti ma erano sicuramente una ristretta minoranza rispetto ai numeri alle cifre così spaventose di cui dicevamo prima tuttavia l'industria poi quella che avrebbe dovuto fornire i trattori e la mititrebbia tanto celebrata dalla Pravda era ancora tutta da organizzare tutta da costruire questo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 nel 1930 le autorità regionali furono autorizzate effettivamente a prendere tutte le misure necessarie per azzerare i culachi i più agiati furono subito deportati gli altri comunque espulsi dai loro villaggi e la furia collettivista fu dominata dal terrore si viveva nel terrore anche nelle città ma il terrore che si sviluppa nelle campagne non ha paragoni alla fine quel po' di classe operaia che esiste in un'Unione Sovietica che poi aumenterà in maniera proporzionale negli anni seguenti è così fondamentale allo sforzo bellico potremmo dire visto che i piani quinquennali sono una sorta di organizzazione militare perché militarizza gli operai e perché è anche destinata alla militarizzazione del paese a sostenere quello che sarà ora lo sforzo industriale ma poi successivamente lo sforzo bellico lo abbiamo detto la Russia deve guadagnare posizioni nell'ambito dell'economia mondiale per potersi difendere adeguatamente dalla congiura capitalista tra virgolette che la stringe da ogni dove da ogni presso cosa che effettivamente era come dire fattuale all'epoca pensate che le direttive che venivano emanate prevedevano questo tipo di concetto eccedete dovete sempre eccedere cioè ben figurare mettervi in mostra essere degli stacanovisti in ogni tipo di attività che svolgete se in qualcosa eccedete e venite arrestati ricordatevi che lo siete stati per una causa rivoluzionaria perché anche chi eccedeva eccedeva troppo non si può dire in italiano non si potrebbe dire ma lo uso in senso ironico anche chi eccedeva troppo mettendosi in mostra e magari ne pagava il prezzo pagava il prezzo di essersi messo troppo in mostra veniva preso e mandato nei gulag e poi magari poteva consolarsi tra sé e sé e qualcuno lo fa in termini proprio religiosi perché è una consolazione religiosa quella dell'ideologia tanto hanno penetrato a fondo l'uomo nel novecento ecco si poteva consolare con l'idea di aver contribuito alla causa del comunismo un po' come il cattolico poteva consolarsi di aver ben meritato e quindi di poter volare un domani in paradiso si arrivò in questa maniera alla deportazione di una parte rilevante della popolazione delle campagne anche qui le cifre sono approssimative si parla di un quarto circa della popolazione delle campagne tutto il ceto dirigente del mondo contadino effettivamente e la cui tenuta sociale e culturale fu distrutta abimis fundamentis rasa al suolo chi invece si sottometteva alla collettivizzazione quindi alla fine entrava nelle cooperative no i famosi colcos o softcos e vi entrava senza nulla cioè pensate che questi preferivano distruggere i pochi averi a loro disposizione che magari avevano accumulato con tanto sacrificio parliamo della vacca che veniva macellata almeno banchettiamo con le sue carni prima di essere ridotti in perfetta miseria oppure davano fuoco alle loro case e alle terre per non lasciare che se ne impossessasse qualcun altro di fatto si trattò di una seconda guerra civile silenziosa strisciante che si protrasse per molti anni e che causò un numero di morti elevatissimo parliamo di milioni di morti nel complesso alla fine del processo le campagne russe pagheranno un prezzo realmente esorbitante per l'industrializzazione delle città forse quello più alto in assoluto che fu mai pagato per l'industrializzazione di un paese certo i risultati furono indubbiamente notevoli come abbiamo già detto questi sono i fatti i giudizi li lasciamo da parte per il momento per concludere vi leggo una pagina di Arcipelago Gulag di Alexander Solgenizzi forse il più famoso scrittore russo quello che negli anni settanta ha rivelato i segreti di Arcipelago Gulag al mondo occidentale fuggito dall'Unione Sovietica pubblica il suo libro in occidente libro che conobbe una grande fortuna tradotto in tutte le lingue e quindi si iniziò a parlare dei Gulag anche presso l'opione pubblica occidentale solo presso l'opione pubblica occidentale negli anni settanta ancora era in piedi l'Unione Sovietica e questi temi anche se nel frattempo c'era stata la destalinizzazione Stalin era morto nel 1953 e nel 1956 nel famoso congresso del PQS del Partito Comunista dell'Unione Sovietica il ventesimo congresso Khrushchev aveva preso le distanze dal regime staliniano condannandolo per alcuni dei crimini commessi durante quel periodo poi di tante cose si è saputo soltanto dopo comunque negli anni settanta l'argomento presso l'opinione pubblica quel po' di opinioni pubblica sovietica era ancora decisamente arduo da trattare di fatto se ne parlerà soltanto dopo la caduta dell'Unione Sovietica ma in occidente se ne inizia a parlare è una pagina particolarmente significativa particolarmente intensa lascio la parola a Alexander Solgenizzi se agli intellettuali di Chekhov sempre ansiosi di sapere cosa sarebbe avvenuto tra 20 o 40 anni avessero risposto che entro 40 anni ci sarebbe stata in Russia un'istruttoria accompagnata da torture che avrebbero stretto il cranio con un cerchio di ferro immerso un uomo in un bagno di acidi tormentato altri nudi e legati con formiche cimici cacciato nell'ano una bacchetta metallica arroventata su un fornello a petrolio marchio segreto schiacciato lentamente i testicoli con uno stivale e come forma più blanda suppliziato per settimane con l'insonnia la sete percosso fino a ridurre un uomo a polpa insanguinata non uno dei drammi cecoviani sarebbe giunto alla fine tutti i protagonisti sarebbero finiti in manicomio e non soltanto i personaggi cecoviani ma nessun russo normale dell'inizio del secolo ivi compresi membri del partito socialdemocratico dei lavoratori boscevichi avrebbe potuto credere avrebbe sopportato una tale calugna contro il luminoso futuro quanto si addiceva ancora allo zar Alexei Mikhailovich e pareva oramai barbarie sotto Pietro tutto questo nel pieno fiore del grande secolo ventesimo in una società ideata secondo un principio socialista negli anni quando già volavano gli aerei erano apparsi il cinema sonoro e la radio fu perpetrato non da un unico malvagio non in un unico luogo segreto ma da decine di migliaia di belve umane appositamente addestrate su milioni di vittime indifese oggi la leggenda scritta e verbale attribuisce esclusivamente all'anno 1937 la prassi delle colpe inventate di sana pianta e delle torture non è giusto non è esatto nei vari anni e decenni l'istruttoria basata sull'articolo 58 il famigerato articolo 58 non è quasi mai stata fatta per appurare la verità ma è consistita soltanto in una inevitabile sporca procedura la persona poco prima libera a volte fiera sempre impreparata doveva essere piegata trascinata attraverso una stretta conduttura dove i ganci dell'armatura le avrebbero dilagnato i fianchi dove le sarebbe mancato il respiro tanto da costringerla a supplicare di uscirne all'altra estremità e questa l'avrebbe gettata fuori come indigeno bel e pronto dell'arcipelago della terra promessa lo sprovveduto si ostina immancabilmente crede che esista anche una via di ritorno dalla conduttura più passano gli anni privi di documenti scritti e più è difficile raccogliere le sparse testimonianze dei superstiti essi ci dicono che processi fasulli furono intentati fin dai primi anni dell'esistenza degli organi perché fosse sentita la loro insostituibile incessante opera salutare altrimenti con il calo dei nemici gli organi non si è mai detto si sarebbero atrofizzati è più giusto parlando del 1938 dire questo se fine a quell'anno per l'applicazione delle torture era richiesta qualche formalità un'autorizzazione per ogni istruttoria anche se era facile ottenerla nel 1937-38 data la situazione d'emergenza bisognava far passare attraverso l'apparato istruttorio individuale entro il breve tempo assegnato i preventivati milioni di arrivi nell'arcipelago se ne era fatto a meno nel caso delle fiumane di massa quella dei kulaki e quella dei nazionalisti ebbene le violenze e le torture furono autorizzate senza porvi limiti e lasciate alla discrezione dei giudici istruttori a seconda di quanto esigeva la mole di lavoro e il termine fissato non vennero specificati nemmeno i tipi di torture qualsiasi ingegnosità era ammessa anche qui si parla proprio di una ingegnerizzazione dei tribunali speciali cioè bisogna produrre arcipelago gula che bisogna rispettare le cifre le quote stabilite dal governo un po' come l'estrazione del carbone dalle miniere o la produzione di trattori o più in là di carri armati non importa il prezzo nel 1939 tale generale e ampia autorizzazione fu ritirata occorse di nuovo un permesso scritto forse non tanto facile da ottenersi dal resto le semplici minacce il ricatto l'inganno il logorio mediante l'insonnia e il carcere duro non furono mai vietati ma già dalla fine della guerra e negli anni immediatamente successivi furono definite determinate categorie di detenuti per i quali si permetteva in anticipo una vasta gamma di torture erano i nazionalisti in particolare ucraini e lituani e soprattutto i casi in cui esisteva o era immaginata una catena clandestina e bisognava dipanarla tutta e storcere tutti i cognomi da chi era stato catturato così sviluppandosi in una spirale le deduzioni della scienza giuridica d'avanguardia tornarono alle vedute anteriori all'antichità classica e a quelle del medioevo come i boia medievali i nostri giudici istruttori procuratori e magistrati acconsentirono a vedere la prova decisiva di colpevolezza nella sua ammissione da parte dell'accusato è entrata in gioco anche un'altra circostanza come sempre Stalin non pronunziava l'ultima parola i sottoposti dovevano intuire da soli mentre lui si lasciava un pertugio da sciacallo per potersi ritirare e scrivere troppi successi montano la testa dopo tutto il supplizio benificato di milioni di persone era stato intrapreso per la prima volta nella storia dell'umanità e per quanto forte fosse il suo potere Stalin non poteva essere assolutamente sicuro del suo successo fatta su di un materiale enorme l'esperienza avrebbe potuto dare esiti imprevisti poteva avvenire un'imprevista esplosione un movimento tellurico o perlomeno una divulgazione su scala mondiale qualunque cosa accadesse Stalin doveva rimanere in paludamenti angelicamente puri la sua figura non doveva essere compromessa insomma un'opera di manipolazione di ingegnerizzazione compiuta sul proprio popolo con mezzi tecnologicamente sofisticati e come dire assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda la conoscenza della psicologia del singolo individuo nonché della psicologia di massa condice osine guana on per mettere in atto una politica del genere sempre con il beneficio dell'inventario e della sperimentazione dell'inventario di 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 Grazie a tutti.